Grazie a tutti per la partecipazione. Volevo ringraziare il Ministro per le imprese Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro per l'agricoltura, l'obrigida, grazie per essere qui ed è sicuramente un piacere essere con voi oggi per questa giornata che ritengo decisamente importante per il valore che ha soprattutto in Italia ed è sicuramente la giornata della ristorazione un momento particolare perché per chi poi gira spesso all'estero o per chi vive in parte all'estero come è il caso del sottoscritto vi assicuro che una delle cose che mancano di più anche se poi troviamo degli ottimi punti anche all'estero di ristoranti italiani anzi molto importanti e che ci rendono anche molto orgogliosi almeno per quello che mi riguarda è proprio la cucina italiana insomma questo non sfuggirà a nessuno ma anche l'accoglienza che noi troviamo nei nostri ristoranti e anche il fatto che siano comunque diciamo delle imprese familiari che spesso e volentieri vanno avanti di padre in figlio rappresentano questa una caratteristica che è penso peculiare e fondamentale del nostro paese ma guardate una differenza incredibile che si può notare anche nel modo di accogliere le persone sembra cosa da poco ma le persone che lavorano spesso e volentieri nella ristorazione italiana anche hanno anche un modo di accogliere le persone di farle sentire in famiglia che non è comune in tante altre parti del mondo e questa è la nostra specificità molto importante contribuisce evidentemente questo a valorizzare il made in italy in maniera fondamentale e peculiare e contribuisce anche a rafforzare quelli che sono i valori e l'identità culturale io pensavo proprio oggi venendo qui al fatto che tranne i veronesi in sala probabilmente nessuno sa che cos'è la peara però i veronesi in sala lo sanno molto bene ed è parte della cultura non veneta veronese ed è una cosa ci pensavo proprio oggi che a verona tutte le domeniche a mezzogiorno si mangiano i tortellini in brodo e poi il lesso con la peara o il carrello dei bolliti diciamo con la peara no ed è una cosa rispettata nella tradizione della nostra città quasi forse molto di più dell'astinenza delle canne il venerdì in quaresima sembra quasi quando sei bambino sembra quasi una cosa religiosa perché tutte le domeniche sai che a mezzogiorno questo è il pranzo della domenica a mezzogiorno cioè del giorno della festa del giorno più importante poi magari devi andare allo stadio e siccome è leggermente pesante fai pure fatica a recarti nei luoghi insomma di divertimento però pensate alla cultura popolare che c'è dietro ogni piatto del nostro paese della nostra nazione e pensate come a volte questi piatti siano diventati patrimonio culturale non solo italiano ma anche europeo addirittura mondiale un'altra cosa eccezionale per quanto mi riguarda è quello di quando ci si trova all'estero di andare in paesi anche molto distanti trovare i prodotti italiani io vi devo dire la verità è una cosa che mi rende molto orgoglioso e quando li vedo in giro per l'estero sono chiaramente di aziende private eccetera ma sono anche parte mia cioè io mi sento orgoglioso perché quasi come se fossero prodotti miei non dico fatti da me ma sono veramente una persona a quando si trova all'estero e vede i prodotti italiani e vedo che vede che sono apprezzati si sente veramente parte di qualcosa di più grande parte di una cultura di un'identità che deve renderci orgogliosi noi spesso della bontà e dell'apprezzamento che ha la nostra cucina nel resto del mondo non ce ne rendiamo particolarmente conto anzi noi spesso quando pensiamo all'italia tendiamo a essere molto critici con noi stessi la critica va bene se serve per migliorare non se serve per abbattersi ma vi assicuro che nel resto del mondo quando le persone vengono qui vari presidenti delle camere o anche presidenti della repubblica come è successo ieri arrivano qui in italia le cose di cui ci parlano oltre che la bellezza incredibile del nostro paese è della cucina fantastica noi abbiamo sempre delle delle grosse rivalità in particolar modo con i francesi sulla cucina però vi assicuro che la cucina italiana è assolutamente io ritengo la più apprezzata a livello mondiale e tutti e tutti ci invidiano la cultura dei nostri prodotti e la bontà dei nostri prodotti quindi questa è una cosa da tenere bene a mente perché è importante perché serve al paese ma è una cosa anche che ci deve rendere orgogliosi delle nostre delle nostre specificità pensate veramente a quanta diversità a quanta varietà e pensate a quanto questo comunque sia parte della nostra cultura e della nostra identità che noi dobbiamo non solo valorizzare ma tramandare anche alle future generazioni perché c'è un po un tentativo di omologare un po tutto o di cercare di fare in modo che ci siano un po cose che vadano bene per tutti in tutto il mondo invece quanto è importante mantenere la ricchezza della diversità soprattutto quando questa ricchezza delle diversità coincide con la bontà e la qualità dei prodotti italiani quindi sono voluto venire qui perché credo veramente sia importante valorizzare da parte delle istituzioni questo comparto e anche per ringraziare per ringraziare tutte le persone che lavorano in questo settore che si impegnano in questo settore da anni con grandi difficoltà ma con successo internazionale incredibile grazie ancora grazie presidente non so eccolo grazie presidente grazie a tutti voi per aver partecipato numerosissimi a questo invito si tratta presente pensi che nei manuali quelli che parlano inglese il management mentre le chiamano soft skill ma in realtà questa roba è quella che voi avete scritto nel sottotitolo di questo incontro c'è la cultura di saper fare di saper fare italiano che è una forza fenomenale oltre prodotti e tutto quello io però non voglio perdere tempo è molto serrato l'incontro il ministro urso può avere subito la parola intervengo con vero piacere a questo evento cioè la giornata nazionale della ristorazione per la cultura dell'ospedale italiana nella piena convinzione che questo sia un settore trainante della nostra economia nella sua capacità di coniugare al meglio identità e innovazione che sono i due binari su cui si sviluppa il made in italy in italia nel mondo identità e in questo caso la dieta mediterranea la cucina i prodotti alimentari l'ospedalità italiana che ha un suo come dire valore aggiuntivo rispetto al cibo che già è un valore portante e l'innovazione come avete saputo fare investendo in modo significativo più di altri settori anche nella digitalizzazione per rendere sempre più accogliente e competitivo il vostro settore quindi identità e innovazione sono stati i canovacci su cui abbiamo sviluppato anche la prima giornata nazionale del made in italy che si è svolta il 15 aprile in onore del genio di leonardo che ha saputo coniugare meglio di chiunque altro questa peculiarità questa specificità del saper fare italiano che sin dall'inizio nel corso dei millenni ha saputo coniugare appieno appunto identità e innovazione leonardo questo era evidente essendo lui un grande uomo di cultura un artista uno scrittore e nel contempo un grande scienziato un innovatore al punto tale da ideare macchine che soltanto qualche secolo dopo sarebbe stato realizzate ogni giorno sempre più il made in italy è questo identità e innovazione e proprio per questo noi abbiamo siamo convinti che debba nel tempo essere sempre più apprezzato per la sua sostenibilità il made in italy nasce nella percezione del consumatore globale nella volontà dei suoi attori dei suoi protagonisti delle sue imprese come la cosa di maggiore qualità e di eccellenza nel mondo bello buono ben fatto il bello buono e ben fatto deve diventare sempre più anche sostenibile sostenibile sul piano ambientale sostenibile sul piano economico sostenibile sul piano sociale per questo noi vogliamo coniugare la transizione verso la verso un'economia più green con la sostenibilità economica e sociale delle imprese che poi forniscono i prodotti e nel contempo definiscono i redditi dei nostri lavoratori nel vostro settore noi ci siamo impegnati e ci siamo impegnati insieme se pensate ai risultati che abbiamo ottenuto insieme per quanto riguarda la lotta all'inflazione quando questo governo si è insediato 18 mesi fa l'inflazione in italia era l'undici punto 8 per cento il dato più alto tra i grandi paesi europei ben superiore al tasso di incremento inflettivo della media dell'unione europea ieri secondo i dati della stessa commissione europea l'inflazione italia è stata certificata per quest'anno al dato più basso in europa tra i grandi paesi 1.6 per cento era l'undici punto 8 per cento 1.6 per cento ben sotto l'inflazione di grandi paesi come la francia come la germania e ben sotto l'inflazione certificata della media dei paesi dell'unione europea e questo dato confermato oggi tra l'altro proprio sui dati sull'inflazione nei prodotti alimentari che si è notevolmente ridotta ed è ben al di sotto di quella degli altri paesi europei siamo ormai appunto a percentuali infinitissimali e il dato sull'inflazione avete contribuito anche voi sia perché siete stati attori la filiera è stata attore la filiera della l'alimentazione del carello del nostro carello tricolore che in tre mesi è riuscita a dare il suo contributo appunto alle riduzioni del tasse della crescita di inflazione sia perché poi avete sottoscritto un altro accordo particolarmente come dire che evidenzia la socialità del made in italy il farsi carico degli altri un altro accordo con il nostro ministero che ha permesso di realizzare l'iniziativa aggiungi un posto al tavola per i più piccoli aggiungi un posto a tavola oltre 3.000 esercizi hanno sottoscritto e praticato questa intesa ed è anche questo un'evidenza chiara di come il made in italy è sempre più sostenibile cioè affronta i problemi della socialità del coinvolgere gli altri nei processi produttivi il tasso di inflazione è un elemento importante ma non è l'unico perché l'altro che caratterizza le economie italiane in questo momento è la crescita perché pensate nello stesso momento noi siamo il paese col più basso tasso di inflazione tra i grandi paesi europei e nel contempo siamo il paese col più alto tasso di crescita tra i grandi paesi europei perché ieri la commissione europea ha rivisto a rialzo rispetto alle sue iniziali previsioni il tasso di crescita del pil quest'anno allo 0.9 per cento che è superiore al tasso di crescita della francia 0.7 per cento e al tasso di crescita della germania che verosimilmente si attesterà purtroppo solo sullo 0.1 per cento cioè in questo momento l'italia rispetto agli altri grandi europei gli altri rispetto agli altri paesi del g7 europei quindi francia e germania va meglio sia per quanto riguarda il tasso di inflazione perché inferiore a quello degli altri paesi sia per quanto riguarda il tasso di crescita del pil perché superiore a quello degli altri paesi questo ci deve incoraggiare sul fatto che dobbiamo proseguire insieme su questa strada come un sistema paese e quindi in conclusione anche perché mi rivolgo a una platea che ovviamente ha dato tanto in questi mesi può dare ancora di più nei prossimi anni noi pensiamo di inserire nel disegno di legge annuale sulla concorrenza anche quest'anno faremo il disegno di legge annuale sulla concorrenza sembra una cosa ovvia esistendo da da oltre 15 anni una legge che prescrive che si faccia ogni anno il disegno annuale sulla concorrenza ma in questi 15 anni è stato fatto solo due volte prima di noi e noi in due anni lo facciamo ogni anno e lo faremo ogni anno in questa legislatura proprio per creare un clima sempre più favorevole all'impresa anche attraverso il fatto che bisogna sciogliere alcuni nodi che riguardano la concorrenza in questo caso nel disegno di legge sulla concorrenza pensiamo di rendere strutturale la normativa su de or sui tavolini all'aperto al fine di migliorare il decoro dei centri urbani bisogna coniugare le due esigenze l'esigenza di favorire l'accoglienza e l'ospitalità che ha contribuito alla crescita del settore in questi anni in questi anni di difficoltà e di crisi persino durante la pandemia con l'esigenza di migliorare il decoro urbano e per questo stiamo lavorando con i comuni con l'anci affinché ci sia una norma che tenga insieme le due cose migliorare il decoro urbano anche attraverso i de or e i tavolini all'aperto e questo ci può confortare sulla strada di realizzare sempre più una maggiore ospitalità per i nostri cittadini e per i tanti turisti che stanno affluendo nel nostro paese che debbono essere accolti al meglio come essi meritano e come onore anche del made in italy italiano. Buon lavoro. Grazie Ministro. Chiamerei sul palco ora il Ministro Lollobrigida. Un saluto al Presidente della Camera e il loro ringrazio per aver ospitato un'iniziativa di questa importanza al collega Urso, a Fipe Commercio Tutta e mi permetto di salutare anche Vasiliacos che è il Presidente dell'Associazione a livello mondiale perché la capacità di promuovere a livello internazionale una cucina di qualità, una ristorazione di qualità è un elemento fondamentale, un elemento fondamentale in un mondo che si occupa molto di sicurezza alimentare ma che spesso dimentica di aggiungere che alla produzione di cibo debba essere legato un altro termine, quello del buon cibo e il cibo non è solo nutrimento, è un altro elemento di forza della nostra cultura ma è anche un elemento di convivialità, un momento per stare insieme. Per un italiano tutte queste cose sono ovvie, anche per altri sono ovvie a livello mondiale, ma la gran parte del pianeta invece non ha la fortuna di conoscere quello che noi abbiamo appreso fin dalla tenera età. In Italia abbiamo un vantaggio, noi abbiamo avuto due grandi docenti in età prescolare che abbiamo incrociato quasi tutti sulla nostra strada, la mamma e la nonna che da bambini ci dicevano con parole semplici ciò che era buono e ciò che era cattivo, due termini che hanno innestato in noi il senso critico e la capacità di discernimento rispetto al cibo di che cosa faceva bene e di che cosa faceva male, al corpo ma non solo, anche alla testa, la convivialità, un aspetto fondamentale della cucina, la convivialità che trova in noi, sì, all'interno della famiglia un luogo naturale, purtroppo sempre meno, in cui ci si ritrova oggi il Times celebrava la capacità della convivialità italiana come mito anche negli Stati Uniti dove questo elemento non sempre e non a tutte le latitudini viene considerato un punto di riferimento. Fa l'esempio della cucina italiana, racconta la storia di emigranti italiani che avevano importato un modo di stare insieme, di riunirsi, di dialogare, di parlare, di creare quel benessere che intorno alla tavola i nostri ristoratori sanno creare. Quel riferimento alla casa, fuori dalla casa che sembra un paradosso ma che in realtà è incarnato dalla nostra ristorazione. La capacità di far sentire in un luogo pubblico le persone al loro agio, di riuscire a creare una sensazione di piacere che va ben oltre i prodotti che si rappresentano e che si raccontano. Noi abbiamo investito su questo modello proprio perché la nostra rete di ristorazione in Italia e nel mondo corrisponde nella percezione degli altri in un elemento di qualità. Una filiera straordinaria che vede i ristoratori, il loro personale, io riconosco qui ovviamente tanti amici cuochi, vi chiamerò così, per capacità si sono affermati in tutto il mondo italiani e non italiani che hanno saputo però valorizzare i nostri prodotti nei piatti italiani e anche nei piatti non italiani, che sono una rete di distribuzione straordinaria, una rete di promozione straordinaria sia in Italia che all'estero che noi dobbiamo sapere sfruttare. L'Italia è una nazione della quale non possiamo che essere orgogliosi, però l'orgoglio non porta economia. La consapevolezza può portare a una crescita economica della ricchezza. La consapevolezza della fortuna che abbiamo avuto è nascere in un piccolo lembo di terra, lo 0,2% circa delle terre emerse del pianeta, lo 0,7% circa della popolazione mondiale, ma che al suo interno ha avuto la capacità di coniugare come fosse un croggiolo praticamente tutta la cultura del pianeta. Nel DNA, nei nostri 3.000 anni di storia, ci sono le culture del mondo allora conosciuto in Occidente, attraverso l'impero romano, abbiamo avuto le invasioni barbariche che ci hanno portato alle culture del nord, abbiamo avuto gli arabi, abbiamo avuto contatto in delle diverse epoche con ogni lembo del pianeta e qualcosa ci è stato lasciato e lo ritroviamo. Paradossalmente la parcellizzazione della nostra Italia in tanti comuni, come ricordava il Presidente Fontana, ha messo nella condizione a pochi chilometri di distanza di distinguerci in positivo per prodotti, per modelli di presentazione, per modelli di ristorazione, per capacità di avere cibi e vini che richiamano al territorio. E allora questo potenziale lo dobbiamo sfruttare al massimo. Con il collega San Giuliano è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, quella di chiedere il riconoscimento della cucina italiana, non solo cibo, ma legame con il territorio, con i monumenti, con la nostra storia, con la nostra ricerca, con la nostra presentazione, con la convivialità come patrimonio dell'UNESCO. Non cambierà la vita questo riconoscimento che io immagino nel 2025 ci metterà nella condizione di avere lo stesso titolo della cucina giapponese, coreana, francese e messicana che già sono riconosciuti in quest'ottica. Ma il racconto in questi due anni che ci permette in tutto il mondo di raccontare ancora di più questa cucina ci permette di affermarla ancora di più per quello che è un complesso che ci permette di trascinare dietro una filiera di produzione e una qualità che è indiscutibile. È ovvio che ci sono però tante cose da fare, alcune venivano citate. Io credo che oggi sia corretto immaginare una normativa di De Ormà, è altrettanto corretto garantire alla ristorazione italiana che più di altri ha sofferto durante la pandemia la possibilità di recuperare quello che ha perso in quella fase. Dopodiché io penso che i ristoratori veri, uso questo termine, siano quelli che ci tengono di più all'ambiente che li circondano, alla qualità della vita nelle città e quindi sono quelli più attenti al decoro pubblico. Ma noi dobbiamo pensare oggi a salvaguardare quel gap che hanno avuto di danni in due anni e mezzo o tre in cui il turismo è stato fermo e questa la riteniamo una priorità. C'è necessità di sostenere questo settore con la formazione del personale, con la valorizzazione delle scuole. Noi abbiamo bisogno di persone qualificate, italiane e quelli del resto del mondo che vogliono venire ad apprendere in Italia e a lavorare in Italia, attraverso gli istituti alberghieri, per esempio, agli istituti agrari in altro settore. Spesso le due cose però sono a confine. È fondamentale una formazione di qualità e che gli istituti alberghieri non siano più considerati scuole di secondo ordine, immaginando che l'unico ascensore sociale resti, vengo dal liceo classico, l'educazione classica. Sono scelte diverse, di uguale qualità e con potenzialità, peraltro, di reddito spesso inverse e di capacità di occupazione spesso inverse. Quindi credo sia fondamentale raccontare anche questo tipo di esperienze e le capacità che ci sono, raccontare la solidarietà che i ristoratori fanno, un elemento centrale della ristorazione italiana, la generosità del mondo legato alla ristorazione italiana, credo sia un esempio eccezionale e so che verrà discussa e raccontata in queste ore. Noi stiamo facendo il possibile anche per riportare alcune cose al loro posto dal nostro punto di vista. Abbiamo votato poco tempo fa una legge che è stata animata da uno dei pasticceri più importanti d'Italia, il Gino Massari, definita legge Massari. È una legge che immagina di avere, come in Francia, come negli Stati Uniti, dei riferimenti in alcune professioni. Il maestro di ristorazione, il maestro di pasticceria, il maestro nella produzione di vino, il maestro nella produzione di olio, il maestro nella produzione di formaggi, devono diventare dei simboli, dei miti, come Paul Beaucuse in Francia, che può essere un riferimento di un modello per regalare anche i giovani, la possibilità di guardare a questo. L'inserimento in Costituzione è un'altra richiesta che faremo e che proponiamo nell'articolo 32 della difesa dell'identità e dei nostri prodotti. Non c'è niente di male, è un elemento unificante che nella nostra legge fondamentale merita, a nostro avviso, di essere ospitato. Non la faccio lunga, voglio ringraziare però in questi giorni, Fipe Confcommercio, perché abbiamo sottoscritto un protocollo, in realtà io l'ho sollecitato, non ho fatto altro che assistere a quello che è un protocollo di intesa tra la ristorazione e Afidop, l'associazione dei rappresentanti del mondo della produzione dei formaggi di qualità. Qualcuno l'ha titolato, l'obbligo di mettere nei menù della ristorazione dei formaggi. Non è nostra intenzione obbligare nessuno a fare niente, ma utilizzare la rete dei ristoratori per aumentare il valore dei nostri prodotti eccezionali, questo sì lo sollecitiamo e troviamo dall'altra parte il sistema Italia che risponde positivamente. I nostri formaggi non sono inferiori a quelli di nessun'altra nazione, lo dicono i mercati, oggi in Francia abbiamo un export eccezionale di formaggio, dico la Francia perché è il nostro competitor naturale su questo settore. E aumentare il valore dei formaggi ti permette di aumentare il valore del latte, del lavoro, della qualità che è collegata a questo. Faccio un esempio sui formaggi, potevo farlo sull'olio, sui tanti prodotti che possono emulare il vino nella crescita esponenziale che ha avuto, trasformandosi da prodotto che accompagnava il pasto a prodotto centrale che viene accompagnato spesso dal pasto. Riuscire a fare questo grazie a quelli che arrivano qui e assaggiano i nostri prodotti, tornano e dicono ma esiste una cosa che non conoscevo e voglio continuare a comprarla e quindi aumentare il nostro export, aumentare il nostro turismo perché quando uno legge della burrata d'Andria, delle nocciole delle langhe, qualsiasi prodotto può assaggiare da noi vuole andare a visitare i posti da cui provengono quei prodotti. E quindi ringrazio le nostre ambasciate nel mondo rappresentate dalla ristorazione, gli eccezionali cuochi, i sommiglieri personali di sala e ovviamente Fipe Commercio e tutti quelli che saranno protagonisti del dibattito di oggi rendendo l'Italia più forte e quando fa sistema anche molto competitiva sul pianeta da ogni punto di vista. Grazie. Grazie Ministro. Allora io adesso chiederei alla regia se è possibile lanciare il messaggio che ha fatto Carlo Sangalli che tutti voi conoscete, Presidente di Commercio, Imprese per l'Italia. Non... Just a moment, we're waiting for Carlo Sangalli. C'è qualcuno che mi può dare qualche informazione? Avviene anche normalmente in televisione quello che sta succedendo ora, quindi è una cosa normale. Io posso passare otto minuti a raccontare altre cose? Ok, perfetto. Presidente, it's your turn, please. You can have a speech on the podium. Ognuno di voi ha lo speech del Presidente nella propria cartellina. Aleksandros Vasilikos. Grazie. Grazie. Dear Presidente, Ministers, representatives of the Italian gastronomy, dear Presidente, ladies and gentlemen, it is with great honor and privilege that I stand before you today come Presidente di Hotrec, per questo speciale giorno per i restauranti italiani. Oggi non solo celebrava l'Italia' eccellente culturale culturale, ma anche pregge l'attività dell'invaluabile contribuzione della industria restauranti alla nostra cultura europea, economia e società. Italia, con la tradizione gastronomica mondiale, mantiene un'attività speciale in i nostri i nostri amici. E' tutti i nostri amici, e ho parlato, e ho detto che mia madre è francesca, mio padre è greco, quindi quando diciamo che siamo amici di quello che hai avuto con l'Italia gastronomica ho dicono, con gli prodotti emblemati e fantastico marketing che hai fatto. Trasci, dietro i famosi e il ambiente di ristorante nostri ristoranti, c'è una industria dinamica che face la sua propria strada di ristoranti. Le passi anni hanno stato particolarmente difficolti, come il settore di ristorante ha navigato in un'attività di ristorante. Tornando alla pandemia e alla costa di ristorante. in un'attività di ristorante di ristorante. Ma, inoltre, inoltre di questi problemi, la resilienza e la determinazione dei ristoranti ristoranti, dei chefi, dei staff che lavorano nel nostro ristorante, hanno mostrato, e hanno avuto i problemi, inspirando a tutti i nostri amici, con un'attività di ristorante di ristorante. In un'attività di ristorante, noi, come europei, saranno scegliere la nostra nuova leadership. È cruciale per noi di enfasizzare le priorità di Hotrex in creare le nuove luci che supportano la crescita e la sostenibilità finanziaria della ristorante ristorante. Grazie. Let me just share with you some of them. First, we advocate for tourism to be recognized as an economic and social hub that creates millions of jobs. A few numbers, tourism accounts for 10% of European GDP. Over 50% of the establishments in European hospitality are food-led businesses, with almost one million restaurants, cafes and pubs in Europe. The majority of these enterprises are family micro enterprises that have less than 10 employees. And these employees are young people more than any other industry. So we are a way into the market for the young people to start working. Second, we push for a fair taxation policy. In many countries, we see the rise of VAT and other taxes that affect affordability, competitiveness and the overall economic vitality of our businesses, in particular small and independent restaurants. Third, we work together to help companies in their commitment to embrace a more sustainable approach. This is imperative, but also represents opportunities for businesses to adapt. We must engage with European and national policymakers in shaping a regulatory landscape that tackles the climate emergency while safeguarding the viability of our businesses, prioritizing adaptation efforts and ensuring that no one is left behind. The waste management is a very good example where we can successfully work together with FIPE and we have done already in the packaging with the packaging practices and what we had to deal with and we still have to deal with with the European Commission. Innovative solution and raising awareness to reduce waste. Last but not least, innovation and digitalization will be part of this successful transition. The most important thing is that market competition remains fair and balanced. this is not without challenges. The current situation is very ironic. Restaurants, hotels do all the investments, carry all the operating costs, but at the end the large online booking platforms control the sales. In principle, these platforms must comply with EU rules on the digital market. Yet in practice, due to market dominance, the visibility of direct bookings options over shadows restaurants. The detrimental effect of fake online reviews, something FIPE has done a lot of work on as well. On the reputation and revenues of restaurant is another example showing the need to join forces to reach digital fairness by uniting our voices in Hotrek. I will now try to speak Italian. So, to conclude, I would like to try to talk to the regulators in Italian, the European legislators and national legislators. I do not speak Italian, but I will try. I pray that you do not consider the restaurants like today, in which I have served sivu and beer. If ya'en taraf, see us, for ya' we are really. Only those customers of the tradition, local recipes, local products and European styles. Thank you for sending me to you today. Thank you for your honor to get to me today. Thank you, President. Hello, President Sto locked receiving power 맞아요. a lei adesso la... Presidente, grazie, grazie per... Presidente, però vada sul palco, poi dopo facciamo una tavola rotonda un po' più informale. Buongiorno e grazie anche da parte mia. Il Presidente della Camera Fontana, i Ministri Urso e loro l'inizio sono usciti, ma è evidente e dovuto il ringraziamento che dovevo, come devo evidentemente a tutti voi e ai parlamentari della Repubblica Italiana che oggi sono qui presenti, i miei amici, gli ospiti e gli operatori del nostro settore. Nel ringraziare innanzitutto l'istituzione che ci ospita e i tanti esponenti della politica che in questi anni hanno avuto la sensibilità e la responsabilità di raccogliere le istanze, le aspettative e i bisogni del mondo della ristorazione, non posso esibirmi dall'esprimere innanzitutto la soddisfazione dell'intero settore per l'avvio dell'iter legislativo che porterà, speriamo presto, insomma la ufficiale istituzione della giornata della ristorazione all'interno del calendario italiano, grazie al sostegno di tanti ministeri importanti e all'azione di alcuni parlamentari a partire dall'onorevole Luca Sgueri, a cui va il nostro riconoscente ringraziamento. Dalle piazze nelle quali, nei lunghi periodi di chiusura e limitazione delle nostre attività per l'emergenza sanitaria, esprimavamo con il garbo e la dignità di imprenditori per bene che ci ha sempre contraddistinto, esprimavamo, dicevo, il nostro disagio e la nostra difficoltà nei confronti di provvedimenti che mettevano a repentaglio la continuità di aziende nei fatti classificati e non essenziali. Oggi siamo arrivati alle Aule del Parlamento, dove viene ufficializzato un atto di forte valore simbolico e pieno di significato di cui siamo onorati e orgogliosi. È stata una strada in salita che abbiamo percorso insieme, insieme alle nostre imprese, insieme alle istituzioni, insieme alla nostra Confcommercio, insieme ad associazioni e ad aziende leader della filiera, che hanno condiviso l'istanza di promuovere un momento celebrativo della ristorazione italiana come giusto riconoscimento verso un settore strategico per l'agroalimentare italiano, fattore di attrattività turistica, espressione dell'identità e dello stile di vita italiano, forte elemento di aggregazione, integrazione, di inclusione sociale e di civiltà, in cui sono condensate storie e tradizioni del nostro Paese. Questa giornata è anche l'occasione per parlare di numeri, di imprese, di consumi, di occupati e di valore aggiunto, che restituiscono dignità economica e orgoglio al settore, migliorandone anche la sua considerazione pubblica che spesso l'aderubrica a fenomeno di costume o di folclore. E a proposito di dignità economica del settore, è un segnale importante che oggi con noi ci sia Alessandro Vasilikos, Presidente di O3 che ha parlato prima di me, che in Europa porta la voce delle tantissime imprese del mondo dell'ospitalità. Infatti, alla vigilia delle elezioni europee, è utile sottolineare che quando si parla di competitività europea, oltre a richiamare i giusti obiettivi di autonomia energetica, di difesa della capacità industriale continentale o l'istituzione di un mercato unico per i capitali, non è possibile trascurare, come ha ben detto Alessandros, il ruolo del turismo, nel quale la ristorazione gioca un ruolo di primaria importanza in termini economici ed occupazionali, ma anche di capacità di attrazione, di inclusione e coesione territoriale, oltre che di espressione dei nostri storici valori sociali e culturali. La giornata della ristorazione parla di numeri, ma anche, forse soprattutto, di valori, raccontando il ruolo sociale della ristorazione che, intorno alla sacralità della tavola e al concetto di convivialità, rafforza il senso di comunità, identifica uno stile di vita riconoscibile e un modello di accoglienza basato sulla qualità del prodotto, del contesto e delle persone. Non a caso, anche quest'anno, siamo con Caritas Italiana per sostenere un progetto contro la povertà alimentare ed il disagio sociale, perché questa giornata parla anche di persone, a partire da migliaia di ristoratrici e ristoratori in tutta Italia, e non solo, che hanno aderito a questa iniziativa, dai presidenti e direttori della Fipe Commercio Locali, che in questa settimana stanno realizzando tante iniziative alle donne e agli uomini che scrivono, parlano, vivono di cucina italiana e del modo in cui la cucina si fa comunità, società e infine economia del Paese. Ecco perché riteniamo la nostra giornata pienamente coerente con il progetto governativo a cui faceva riferimento il ministro Lollobrigida di candidatura della cucina italiana a riconoscimento un esco patrimonio dell'umanità, che trova i suoi presupposti e requisiti nei valori identitari e qualitativi di condivisione, di convivialità e comunità, che sono al centro di un settore che merita considerazione istituzionale, rispetto sociale, interventi e azioni di politica economica che ne valorizzino ruolo e funziona. Oggi il pluralismo alimentare, fatto di convivenza di diversi stili e ricette gastronomiche, sta crescendo anche nel nostro Paese, influenzato da mutamenti demografici, dalle contaminazioni della globalizzazione, dalle mode e dalla comunicazione che stanno cambiando, abitudini e stili alimentari. Tuttavia, proprio il pluralismo, interpretato attraverso la qualità, non impoverisce l'identità italiana in cucina, alimentata da un modo tipicamente italiano di intendere di vivere il cibo. La cucina italiana non è fatta di purismo in cucina, ma di un'idea di vita dove il cibo è elemento di socialità, di appartenenza e di differenziazione. Questo la rende patrimonio dell'umanità, ma anche uno straordinario capitale italiano che va messo al centro della nostra promozione, dell'educazione delle nuove generazioni e di una visione strategica del sistema Paese. L'augurio quindi è proprio quello che una giornata dedicata alla ristorazione che vogliamo istituire, ci aiuti a tenerlo meglio presente ogni giorno. Grazie. Grazie Presidente. Abbiamo il video del Presidente Sangalli. Poi forse dovremmo aggiungere delle sedie qua, non so se funziona così, però vediamo Sangalli. Signori Ministri, onorevoli parlamentari, autorità, caro Presidente Stoppani, caro Lino, e cari amiche e cari amici di Fipe, credetemi, mi dispiace davvero non poter essere qui con voi in questa mattina, una mattina intensa, ricchissima di contenuti, che celebra la giornata della ristorazione, un momento davvero speciale per Fipe, per Coffcommercio quindi e credo di poter dire per il nostro Paese. E Coffcommercio è fiera di questa manifestazione diffusa che valorizza quello che è uno dei settori simbolo della rappresentanza di Coffcommercio, ma che è soprattutto uno dei settori più importanti nella riconoscibilità e identità del nostro Paese. E credo sia importante ricordare che la ristorazione nel 2023 è riuscita a recuperare il terreno perduto nei drammatici anni della pandemia, ritornando ai livelli di fatturato del 2019 a quota 91 miliardi. Un settore quello della ristorazione che dà lavoro a 1.400.000 persone con grandi potenzialità di crescita. E mi permetto a questo proposito di ricordare che in Italia negli ultimi 30 anni l'occupazione è salita grazie solo al terziario di mercato che noi abbiamo l'onore di rappresentare. So che siete nella sala della regina dove appunto in tempo di monarchia la regina sostava prima del discorso del re alle camere. E mi sembra bene augurante, ecco la dico così, mi sembra bene augurante ricordare che la mitica pizza Margherita si chiama così perché, come certamente sapete, è dedicata alla regina Margherita, pizza prediletta dalla regina perché si racconta la pizza pomodoro, mozzarella, basilico, ricordava i colori dalla bandiera italiana. E così mi pare di poter leggere è anche la nostra giornata della ristorazione, capace di raccontare, diffondere, promuovere con una ricetta vincente l'ospitalità, lo stile di vita conviviale e l'identità del nostro paese e del nostro modello economico. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie a Presidente. Allora forse dovremmo allargare... All'onorevole Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna. Grazie per aver... L'aria cavo... Non l'ho vista però... Eh? Non c'è... Beh, va bene, iniziamo e siamo qua apposta. Allora, ho letto il... Onorevole Squeri Forse l'avevi già acceso? Provi a vedere? Sì, 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 sì. Adesso arriva anche a loro, adesso è così iniziamo, direi proprio da lei perché ho letto questo... Ecco, perfetto. Ho letto il vostro disegno, la vostra proposta di legge, il vostro disegno di legge, molto semplice, molto chiaro per l'istituzione di questa giornata. Le faccio una domanda non retorica, anche se il Presidente ha già risposto e poi glielo chiederò anche al Presidente. Servono queste celebrazioni? Hanno ancora un significato concreto o sono soltanto il riconoscimento di un ruolo importante che tutti quanti noi attribuiamo al settore? Ma direi di sì, direi proprio di sì e ne abbiamo una prova approvata perché diciamo che questa legge ha avuto un prototipo che è stata la giornata della ristorazione che avete fatto, che la FIP ha organizzato l'anno scorso, il 28 aprile, coinvolgendo migliaia e migliaia di esercizi pubblici attorno a un evento che celebrava l'anno scorso il pane, il prodotto pane, il prodotto proprio diciamo il primo prodotto commestibile nella gerarchia poi di tutto il panorama che abbiamo e ha avuto un successo incredibile. Non per nulla ha avuto come comprimari i vari ministeri che oggi sono a supporto di questa iniziativa, ministri del Mimit, dell'agricoltura, c'è il Ministero degli Esteri coinvolto, il Ministero del Turismo e addirittura il Presidente della Repubblica questa giornata del 28 aprile ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per l'alto valore di questa iniziativa. Per cui io devo dire che questo rappresenta l'importanza, abbiamo sentito tante parole su questa attività così diffusa, io penso che se andiamo a vedere la definizione di ristorazione nell'Oxford Language e parla di una benefica compensazione dell'affaticamento e dell'indebolimento fisico o consolazione, sollievo della prostrazione o avvilimento spirituale. Negli interventi precedenti abbiamo sentito sottolineare giustamente l'aspetto identitario legato alla tradizione, legato al patrimonio che l'Italia ha nella sua diversità, 8 mila comuni, 8 mila città dove ogni domenica di Pasqua il Presidente della Camera ha parlato del suo piatto veronese, mi sa che ci sono 8 mila piatti in giro per il Paese la domenica di Pasqua. Io invece intendo anche sottolineare l'aspetto proprio sociale, per cui valorizzare questo presidio di cultura materiale dicevo che valorizzare questo presidio di cultura materiale come scrivo nella presentazione della legge non è solamente rispondere a un interesse, a una domanda di interesse di una categoria ma è proprio valorizzare un bene collettivo orientato proprio al bene comune per cui detto tutto questo penso che sia una iniziativa che possa dare valore valore come lo ha già dimostrato il 28 aprile, come lo dimostrerà dopo domani perché la seconda giornata della ristorazione si svolgerà dopo domani che sarebbe tra l'altro il terzo sabato di maggio che la legge prevede appunto essere la giornata della ristorazione poi sui tempi diciamo... Ma che succede? Che si fa nella giornata di ristorazione? Scusi se io sono pragmatico. Cosa facciamo? Questo dobbiamo chiederlo al Presidente della Fipe Ah poi ce lo spiega lui, va bene, va bene Però io racconto quello che è successo l'anno scorso cioè 5.000, più di 5.000 esercizi pubblici coinvolti con sedi della Fipe attivate proprio per partecipare da stream e anche rispetto a quello che fu fatto nella sede del Ministero del Mimit e penso che visto il successo che c'è stato sarà sempre di più un'iniziativa che poi coinvolgerà anche gli interlocali nella legge si parla appunto della possibilità di coinvolgere comuni, province, regioni nel promuovere questo tipo di messaggio e diciamo a livello simbolico ma anche concreto c'è la previsione di un'assegnazione di 10 medaglie agli imprenditori che più saranno stati meritevoli nel distinguersi in vari ambiti l'abbiamo sentito citare, l'inclusione, la sostenibilità, la sicurezza, la legalità, l'immagine insomma una giornata che rende onore a questo settore fatemi dire come l'anno scorso il Presidente della Repubblica aveva dato una medaglia adesso il Parlamento vuol darvi un altro tipo di medaglia con questa legge grazie onorevole Squeri direi all'onorevole Andreuzza il vostro punto di vista che è un'altra firmataria tra le prime firmatari di questa proposta ma allora io ringrazio ovviamente la Fipe che ci ha coinvolto e siamo stati molto motivati io credo che questa giornata sarà una grandissima festa immagino che tutti gli operatori che hanno questa peculiarità di avere tanta passione e tanta creatività si impegneranno davvero molto e immagino anche numeri crescenti di coinvolgimento proprio per rappresentare attraverso la ristorazione proprio quello che è la nostra italianità il nostro essere persone conviviali, ospitali appassionate in tutti i settori perché si tratta dell'ultimo anello di una catena che parte dal prodotto e i nostri produttori sono appassionati per arrivare alla lavorazione alla ricerca della ricetta alla storia, al legame col territorio e tutto questo se ognuno di noi immagini i nostri momenti a tavola dove invitiamo un amico dove li utilizziamo per una cerimonia cioè sono davvero il momento più piacevole l'espressione di gioia e anche l'orgoglio con cui raccontiamo il nostro territorio la nostra storia il nostro paese diventiamo i primi promotori di turismo noi nel momento in cui siamo a tavola diventiamo quasi delle guide turistiche perché proprio siamo i primi ambasciatori per cui credo che attraverso questa proposta di legge proprio ci sia una valorizzazione di tutti questi anelli che sono l'enorme filiera che oltre appunto a fare pil come abbiamo detto prima sono anche momento di opportunità di lavoro e soprattutto anche ognuno di questi anelli della catena in particolare la ristorazione richiede sacrificio tantissimo io voglio ricordare che si lavora il sabato la domenica non ci sono riari cioè imprese familiari che sacrificano una vita per essere sempre al servizio con il sorriso con i nostri ospiti e i clienti insomma sappiamo sono sempre più esigenti per cui ci si accomoda anche a tavola in maniera molto semplice però in realtà il cibo lo desideriamo buono vogliamo un'accoglienza il tavolo ben apparecchiato per cui è un mondo vastissimo che noi lo riduciamo al momento così molto semplicistico quasi di andare a pranzo ma in realtà è una realtà enorme per cui io veramente sono convinta che tutti i nostri operatori i nostri ristoratori le scuole la formazione fondamentale noi parliamo di qualità ma la qualità richiede preparazione conoscenza io penso che l'Italia su questo oltre a vedere nella ristorazione un modello che ci rappresenta possiamo assolutamente essere un modello che insegna al mondo io lo dico con molta franchezza sono orgogliosissima come diceva il Presidente quando si va all'estero di vedere un locale italiano di sapere che lì c'è accoglienza è quasi una certificazione di per sé pertanto insomma sono convinta che ci sarà anche da fare un lavoro assieme al Presidente che riguarda il futuro perché la ristorazione nella storia ha avuto un'evoluzione grandissima sempre parallela allo sviluppo della società ai comportamenti delle Ilaria accomodati qui si parallela ai comportamenti della società sappiamo che oggi il futuro è molto più veloce per cui si è parlato di digitalizzazione si parla forse anche i nostri modelli di vita magari cambiano e su questo io conto davvero che la ristorazione continui ad accompagnarci continuamente dandoci questi momenti importanti come è stato detto da tutti di storie identità convivialità comunità pertanto io ringrazio anche tutti voi per il lavoro che ogni giorno fate grazie grazie Gianluca tanti tanti onorevole Caramanna tanti tanti temi però oggi siamo per questa celebrazione quindi cerchiamo di come ha fatto i suoi colleghi dare il suo punto di vista su questa idea di istituire questa celebrazione ovviamente seguendo il filo del ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora che c'è tant'altro da fare ovviamente all'attato buongiorno a tutti grazie dell'invito il Presidente ringrazio anche il Dottor Caluggi tutti gli ospiti e le autorità presenti penso alla proposta di legge si possa dire in questo momento vado un po' anche in continuità rispetto al lavoro che l'intera commissione sta facendo il riconoscimento della giornata è secondo me la punta dell'iceberg di un lavoro che la commissione sta portando avanti su diversi temi proprio in questi giorni stiamo discutendo un'altra proposta di legge sui Deor elaborata anche insieme a Fipe insieme a tutte le associazioni di categoria per capire quella che può essere una nuova visione quando si parla di ristorazione a mio avviso si parla anche della visione della città prima lo diceva il Ministro Urso ma per me che per tanti anni ho fatto il consigliere in questo municipio nel primo municipio di Roma che come tutti sapete vede sempre questo grandissimo problema delle occupazioni di solo pubblico dei piani di massima occupabilità per chi insomma conosce penso voi sicuramente la materia io mi sono sempre battuto affinché si potesse trovare un giusto compromesso ma senza indebolire quello che è un asset strategico della nostra economia cioè la ristorazione quindi credo che in questo momento l'attenzione debba essere posta su quella che sarà una visione nel futuro del nuovo tipo di ristorazione un nuovo modello si parlava di innovazione ma soprattutto non bisogna penalizzare anche nei centri storici le occupazioni di solo pubblico dove è possibile la nostra proposta di legge delega al governo il MIC in particolare prevede insomma di sicuramente avere una visione innovativa ma di non penalizzare in nessun modo le occupazioni credo che le occupazioni di solo pubblico anche nei centri storici dottor Porro siano ormai l'ultimo baluardo di sicurezza una luce accesa la sera un'occupazione in una via magari interna una via buia io credo che quando si possa uscire di casa anche vedendo un'occupazione di solo pubblico sicuramente ci si sente più tranquilli sicuramente anche per i turisti è importante mangiare all'aperto in una città come Roma soprattutto ma in tutta Italia dove si può mangiare nove mesi su dodici all'aria aperta ma credo anche che debbano essere aiutati noi abbiamo oggi aperto avviato con il Ministero del Turismo una mappatura dei codici Ateco perché crediamo che la ristorazione debba far parte anche dell'asset del turismo non soltanto la ricettività ordinaria le guide turistiche o i tour operator anche la ristorazione all'interno per quelli che possano essere in futuro anche aiuti concreti economici come abbiamo visto nel post pandemia quindi qui c'è una squadra compatta al servizio di quella che è diciamo motore trenante della nostra economia e credo che i 50 miliardi di indotto del fatturato dell'anno precedente più di un milione di posti di lavoro siano il termometro di un settore in salute ma che sicuramente può migliorare e noi sicuramente con questa proposta di legge lo faremo grazie grazie a lei Ilaria Cavo a lei insomma la conclusione di questa prima parte e poi col Presidente voglio fare un paio di domande ovviamente grazie grazie buongiorno a tutti mi scuso ovviamente per questo piccolo ritardo ma era contestuare una seduta della Commissione Orlandia a cui dovevo partecipare io credo che stiamo dando sicuramente come commissione per quello che riguarda ovviamente i gruppi che rappresentiamo io rappresento oltre che la Vicepresidenza della Commissione Attività Produttive Made in Italy anche il gruppo di noi moderati e credo che stiamo dando tutti insieme un grande segnale di compattezza quando è stata proposta questa PDL non c'è stata esitazione a firmarla anche io l'ho firmata in maniera convinta nella convinzione che istituire una giornata non sia un qualche cosa diceva bene Gianluca è la punta di un iceberg ed è un grande segnale perché vuol dire riconoscimento riconoscimento al grande lavoro che è certo fatturato ma è grande impegno di questo settore che è stato uno dei più colpiti dalla pandemia e che ha saputo reagire in maniera incomiabile a un periodo assolutamente difficile e dire che quel sabato è dedicato ed è concentrato su questo settore credo che sia un segnale fortissimo che si dà e quindi non è assolutamente da sottovalutare significa incentivare la rete significa una comunicazione importante perché nella legge c'è anche un passaggio ovviamente per quanto riguarda il servizio pubblico di promozione e di attenzione a questa giornata credo che tutto questo sia assolutamente fondamentale ma penso che sia anche il segno di un impegno che vogliamo avere che è in questa PDL ed è in tutti i provvedimenti e le possibilità di sostegno che ovviamente arriveranno e saranno valutate dalla nostra commissione ci sono due aspetti che ritengo fondamentali sicuramente quello dei Deor perché ovviamente per mettere tutto questo considerarli presidio e considerarli un qualche cosa che è di sostegno di aiuto a un settore penso che sia un impegno che dobbiamo prenderci e vogliamo prenderci tutti e c'è l'altro diciamo filone del ragionamento che credo abbiate toccato prima però vorrei rimarcare mi sono occupata tanto di formazione professionale e su questo se veramente vogliamo sostenere e lo vogliamo dobbiamo insistere perché è evidente che il tema del mismatch della difficoltà in molti casi di reperire personale è un tema su cui dobbiamo concentrarci e dare sempre più risposte e questo significa credere credere nella formazione professionale credere nella filiera della formazione professionale credere in quei corsi TS che permettono essendo posti post diploma l'upgrade il perfezionamento la specializzazione di molte delle figure che questo settore sta cercando e quindi rendere anche quei finanziamenti che ci sono stati e ci sono stati importanti ad esempio dal PNRR rendere strutturali e questo sarà io penso un impegno di tutti perché dobbiamo pensare all'oggi dobbiamo pensare alla giornata dobbiamo pensare come dare gambe al settore e andare avanti con personale sempre più qualificato perché chiaramente l'evoluzione l'innovazione e il momento che stiamo vivendo anche di importanza dal punto di vista del turismo insomma tutti i segnali che stanno dando ci obbligano a pensare chiaramente anche al futuro e quindi ai giovani che stiamo formando i tempi della legge devo chiedere bravo Squeri che mi fa le domande quali sono i tempi della legge scusi penso che interessi sapere perché adesso è una proposta di legge ma poi tutti quanti insieme chi è che l'ha firmato ho visto che ci sono tanti nomi giusto allora io sono stato il primo firmatario per diciamo appartenenza nel senso che facendo parte anche del mondo confromercio avendo Lino come grande amico Roberto Calugi e tanti altri che non so citare perché direttore generale della confromercio Luigi Tannato insomma sono stato chiamato a proporre questa legge e dire che la FIPE ha dato un contributo importante a questa presentazione è riduttivo per cui diciamo che coglie pienamente quella che è l'istanza della categoria dell'associazione più importante che rappresenta questa categoria e poi ci sono come cofirmatari i capigruppo di maggioranza l'onorevole Andreuzza della Lega l'onorevole Caramanna di Fratelli d'Italia e l'onorevole Cavudino Moderati devo dire che non è che non ci sia una rappresentanza dell'opposizione per volere nostro è stata proposta anche a loro la firma però diciamo che siamo in campagna elettorale per cui evidentemente non si è voluto diciamo dare un senso di non so quello penso proprio che il voto sarà diciamo probabile i tempi sono stati allora la legge è stata presentata è stata data in sede referente alla decima commissione ieri nell'ufficio di presidenza si è deciso che già la settimana prossima in commissione comincia l'esame sarà proposto nei lavori d'aula trimestrali proprio a fine mese ci sarà l'incontro dei capigruppo per decidere il calendario di aula proporremo che sia prevista l'esame di questa di questa proposta di legge per cui se come immagino già in questo trimestre la camera potrà approvare questa legge poi ci sarà un passaggio al senato doveroso e dunque penso che entro fine anno ci sarà per cui l'anno prossimo ci sarà la terza giornata della ristorazione con diciamo questa medaglia di avere lo Stato il Paese attorno a voi per aiutarvi a organizzare questa giornata la prima la prima l'abbiamo fatta senza legge il Presidente Stoppani senza legge ma con la medaglia del Presidente della Repubblica che vale un imprimatur io che facevo avevo una posizione un po' eterodossa rispetto a tutti quanti voi probabilmente nella sala durante il Covid rispetto ai ristoranti anche qualche ristoratore era d'accordo con me l'abbiamo visto anche malato sì sono stato benissimo io fortunatissimo io le chiedo ma scusi con una festa così organizzata forse qualche eccesso diciamo del periodo Covid riguardo a voi non ci sarebbe stato io voglio andare sul concreto perché io le celebrazioni mi stanno così simpatiche ha toccato il motivo o meno di queste manifestazioni sembrerebbe assurdo perché insomma quella che è la esaltazione il riconoscimento dei valori è così scontata che mai nonostante questo io ho fatto riferimento a un settore durante il periodo Covid è stato considerato attività non essenziale chiudendo aziende con tassi di mortalità perdita di mano d'opera però questo riconoscimento generale non si trasforma ancora in un'azione politica adeguata al nostro settore guai a fare del vittimismo perché sarebbe però il settore è pieno di problemi anche non solo di valori i miei dirigenti lo sanno benissimo insomma un settore che ha bisogno di riqualificarsi di innovarsi che ha problemi di mano d'opera che ha problemi di marginalità di efficientamento eccetera allora dietro queste operazioni c'è bisogno certamente dell'azione dell'imprenditore ma c'è bisogno anche di leggi corrette che incentivino e favoriscono quei che sono gli obiettivi di riqualificazione di innovazione di miglioramento di un settore strategico per il paese ma può fare molto la politica secondo lei insomma il settore della rituazione per esempio non era stato inserito nei settori cosiddetti attività turistiche a favore delle quali frequentemente ci sono provvedimenti e mandi per il sostegno per le attività di innovazione eccetera eccetera insomma anche questi sono segnali è chiaro che l'unica spiegazione che viene detta quando ci proponiamo su questi aspetti 330.000 imprese le risorse sono modeste un frazionamento così disperderebbe probabilmente l'efficacia dei provvedimenti ma insomma oggi il settore se ha questi valori se ha questi numeri se ha questo valore anche di carattere sociale meriterebbe insomma un'altra quindi questa proposta di Squeri e dei suoi colleghi dal senso esatto il primo passo e poi evidentemente andremo alle politiche di bilancio dove ovviamente ci aspetteremo sulle politiche di bilancio questo diciamo che è una partita che oltre sì sì però non me l'avevi detto questo guarda che ho letto l'ultimo comma della vostra legge c'è scritto che zero costa questa roba dieci medaglie costeranno ci ho pensato però è all'interno dei bilanci ho visto che non impegnate nessun capitolo di bilancio quindi costa zero per costo zero si può fare un anno per fare una cosa che costa zero pochi giorni per quelle che costano tanto ultima domanda però che le voglio fare il vostro settore in realtà rispetto ai settori abbiamo avuto il presidente prima che ha parlato è stata molto interessante l'idea di avere una dimensione internazionale la cura che ha il settore in Italia da parte delle istituzioni pubbliche è paragonabile a quello che hanno altri settori come il vostro in paesi immagino Francia Spagna ho scoperto che l'UNESCO ha premiato chiunque tranne noi ha reso patrimonio dell'UNESCO o anche altre cucine beh è chiaro però ha capito la domanda certo vale a dire se gli altri paesi hanno la stessa considerazione che ha oggi l'Italia e insomma ripeto non voglio fare del vittimismo ma oggi tanto per fare un esempio mentre ci sono dei paesi soprattutto scandinavi del nord che hanno delle politiche dedicate al cibo ed è dimostrato dal fatto che i tornei internazionali di cucina sono dov'è dei ragazzi norvegesi danesi olandesi perché dietro queste iniziative che hanno evidentemente un carattere competitivo c'è anche il rafforzamento del soft power collegato alla cucina e oggi insomma i nostri ragazzi che vanno vanno per buona volontà assistiti da quelli che sono le persone che su questo possono dare un supporto ma è un elemento per dimostrare che questo paese ha per quanto riguarda il cibo una dispersione di competenze frazionata dal ministro delle imprese ministro dell'agricoltura ministro della sanità ministro degli interni ministro del turismo ministro della cultura per altri aspetti con il rischio insomma di non avere quel coordinamento delle politiche sul cibo finalizzate a dare quel peso e quell'importanza che meriterebbero e poi se non fai bene questo mestiere lo paghi sul fronte evidentemente non tanto la domanda interna ma quelle che sono le potenzialità sul fronte delle esportazioni perché siamo la vetrina dell'eccellenza del food in Italy e siamo il secondo motivo per il quale il turista viene in Italia ed è il primo motivo per il quale vi ritorna se questi sono asset che hanno un significato anche economico bisogna investirci grazie grazie presidente grazie a tutti quanti voi complimenti per la vostra iniziativa io vorrei fare un'ultima parte ma rimanga anche lei qui cambiamo un po' il protocollo rimanga col conduttore che mi dà una mano io inviterei sul palco il vice direttore della Caritas italiana Paolo Valente bene grazie al dottor Valente e inviterei sul palco oppure non so se il responsabile della direzione regionale del Lazio e Abruzzo di Intesa San Paolo Roberto Gabrielli eccolo Roberto eccoci qua allora perché abbiamo invitato questi due signori perché è legato a questa prenda il microfono prenda il microfono così facciamo una piccola introduzione tanto siamo andati veloci no vabbè quello che è della Caritas perché l'ha detto qualcuno insomma dietro ai nostri settori c'è anche un grande sentimento una grande generosità e il settore ha anche la capacità di guardarsi indietro e guardarsi intorno con Caritas non è la prima iniziativa lei ha chiesto prima che cosa succede durante la giornata della ristorazione ci saranno degli eventi sui territori all'interno dei ristoranti ognuno farà una cucina dedicata e il logo che lei vede qui riproposto sarà verso sul tavolo dei ristoranti di quelli che sono 13.000 ci sarà un QR code che permette di identificare e di regionare su quelli che sono i valori della cucina e al momento del pagamento che è il momento più bello insomma per noi ci sarà la possibilità anche di aggiungere un fee a favore della Caritas l'anno scorso abbiamo raccolto circa 100.000 euro poca roba rispetto ai bisogni di Caritas ma è un segnale insomma di rispetto di sostegno dell'istituzione che merita solo come si combina con la vostra attività meritoria sul territorio di Mense come funziona questa collaborazione funziona benissimo il cibo per la Caritas è uno dei temi diciamo che l'accompagnano fin dall'inizio ancora prima della sua fondazione se ricordiamo nell'immediato dopo guerra i refettori del Papa sono una delle prime iniziative messe in piedi da quella che allora si chiamava Poa e che poi è evoluta nella Caritas negli anni 70 quindi dare da mangiare agli affamati diciamo che fa parte della mission della Caritas però non si tratta solo di dare da mangiare o da bere come è stato detto prima ma anche di farlo bene la qualità del cibo perché la qualità del cibo fa il paio con la dignità della persona noi accogliamo ospitiamo visto che parliamo di ospitalità persone alle quali vogliamo riconoscere una dignità la dignità che meritano questo è un punto importante il secondo è essere presenti sul territorio perché abbiamo sentito oggi di una presenza capillare dei restauratori italiani non solo in Italia ma anche nel mondo ma parliamo restiamo in Italia lo stesso possiamo dire delle nostre Caritas le nostre Caritas sono caratterizzate da una presenza capillare in tutti i territori dalla Caritas parrocchiale alla Caritas nazionale e con persone che si danno da fare che accolgono che ospitano e quindi sono diciamo così un terminale anche che si sovrappone se vogliamo al mondo dell'economia parlavamo prima con qualcuno non c'è il sistema del sociale il sistema dell'economia c'è un unico sistema e bisogna imparare andare insieme e trovare l'equilibrio e anche diciamo i campi comuni nei quali investire insieme sempre ovviamente nell'ottica del bene comune Benissimo Intesa San Paolo il secondo anno che farete insieme alla FIPE questa collaborazione in chi consiste? Allora la collaborazione consiste innanzitutto di essere a fianco del FIPE perché rappresenta la ristorazione in Italia uno dei driver di crescita del nostro paese è stato ricordato prima da entrambi i ministri quando hanno sottolineato che questo paese chiaramente deve crescere deve continuare a crescere e la filiera della ristorazione che poi è strettamente connessa al mondo dell'ospitale del turismo della cultura dei vari servizi come il trasporto e chiaramente produce ricchezze e posti di lavoro siamo a loro fianco se vogliamo in una duplice veste in primo luogo vicino evidentemente agli associati e quindi dando supporto finanziario consulenziale alla loro crescita spesso parliamo di piccole piccolissime imprese molte anche sono nuove imprese quindi la possibilità di concedere a loro attraverso una serie di strumenti che mettiamo a disposizione di poter quindi crescere svilupparsi e soprattutto fare in modo che il made in Italy il nostro made in Italy sia apprezzato in tutto il mondo e poi c'è l'importantissimo diciamo accordo collaborazione con la Caritas dove mettiamo il cibo al centro insieme alle persone quindi condivido quello che diceva il vicepresidente di Caritas il cibo non soltanto come elemento di necessità ma come elemento di inclusione non dimentichiamo che ci sono fasce di popolazione oggi che vivono da sole e quindi la possibilità ed è questo l'oggetto del nostro accordo della nostra collaborazione di creare delle menze nelle quali le persone possono in maniera dignitosa non solo mangiare farlo bene ma soprattutto vivere in una comunità ecco credo che questo sia un ruolo importante che noi abbiamo anche un senso di responsabilità nei confronti dei territori in cui operiamo poi sarà facile donare perché come diceva prima il vicepresidente in oltre 10.000 ristoratori associati ci sarà un QR code dove si potrà chiaramente donare ed è importante farlo perché tutti i fondi andranno tutti per questa iniziativa dalla Caritas vicepresidente le volevo chiedere un'altra cosa lei che cosa chiederebbe se avesse la bacchetta magica per aiutare voi a lavorare ed assistere meglio qual è la cosa di cui lei avrebbe bisogno tra le tante immagini di cui potrebbe fare una lista della spesa possiamo proprio dirlo intanto devo dire vice direttore non vicepresidente ma è un dettaglio le mense proprio di cui stiamo parlando non sono solo un luogo in cui come abbiamo detto si dà da mangiare alle persone il cibo è fondamentale ovviamente c'è ma è un luogo in cui le persone si incontrano e anche un luogo in cui le persone le comunità e i territori si mettono al servizio probabilmente non voglio adesso chiedere per alzata di mano però molti anche qui in questa sala avranno l'esperienza o loro o persone che conoscono di volontariato all'interno delle mense della Caritas o anche di altre organizzazioni questo è il valore che conta ancora di più del dare da mangiare perché il dare da mangiare è quasi una conseguenza se vogliamo perché risponde a un bisogno primario ma questo bisogno primario corrisponde a un altro bisogno primario che è quello delle relazioni e queste relazioni devono essere coltivate e fatte sviluppare sui territori e nelle comunità quindi quello che chiedo è che ognuno contribuisce faccia la sua parte al di là del sostegno economico perché non è il sostegno economico che persegue la Caritas ovviamente serve per mettere in piedi tutte le attività di cui abbiamo parlato però lo scopo ultimo è avere delle comunità attente che si mobilitano e che facciano la loro parte Stopani voglio finire a lei questa prima parte delle tavole prenda il microfono a meno che il nostro collega di intesa non voglia aggiungere una cosa però le voglio chiedere perché Rappello è lì che deve avere 150 persone da moderare ti lascerò tutto il tempo di cui ha bisogno la tua verve però le voglio chiedere invece mi dica lei che cosa vorrebbe per aiutare io penso sono sempre stato sconvolto dal fatto che noi sprechiamo alcune cose che potremmo non sprecare e compriamo delle cose anche i ristoratori immagino guardi che sullo spreco la FIP è tanto per farci ancora una bella pubblicità e tra i sostenitori con il commercio dell'osservatorio internazionale che monitora quelli che sono evidentemente cosa potete fare cosa si può fare di più educazione sensibilizzazione e soprattutto abbiamo anche lanciato il rimpiattino che è la versione italiana della doggy bag con la quale si va al ristorante puoi chiedere oggi c'è la quasi totalità dei ristoranti italiani attrezzati a servire il rimpiattino c'è ancora un fatto culturale per cui chiedere quelli che sono gli avanzi del vino o del cibo è visto come evidentemente un fatto non elegante con il rischio che poi si speca del cibo che è un peccato mortale sapendo insomma Caritas sa benissimo in questo mondo c'è ancora un problema di fame di malnutrizione di problema di sete e soprattutto anche poi di malattima questo è un altro tema per cui insomma quello che chiediamo ma si dice rimpiattino io non lo sapevo rimpiattino poi insomma c'è dietro anche un ragionamento di logica anche grammaticale perché rimpiattare vuol dire metterne nel piatto per cui rimpiattino da lì vuol dire rimpiattare quelli che sono gli avanzi e lei sa tra l'altro che la cucina italiana è fatta anche contrastando lo spreco e riutilizzando quelle che sono le materie avanzate per le ricette che conosciamo insomma bene io direi di chiudere qua grazie veramente per il vostro sintetico contributo Davide a te la parola grazie Presidente così vai a fare subito l'intervista grazie il microfono è un passaggio però devi sì bene grazie grazie buongiorno e lasciamo che il Presidente vada a fare la sua intervista e prima di iniziare le interviste qui dovremmo se non sbaglio collegarci con le Marche giusto c'è qualcuno che mi può dire ecco sì perfetto allora ci colleghiamo con la Confcommercio delle Marche dove ci sarà il Direttore Massimiliano Polacco e se non sbaglio anche il Presidente della Regione giusto vedo io mi vedo bene ma questa non era l'immagine che aspettavamo è bella è bella non c'è niente da dire come ha detto il mio amico prima questo succede in televisione succede dappertutto e sta succedendo anche qui nella sala della Regina se non siamo pronti io vado avanti tranquillamente non c'è problema se mi dite ah eccolo benissimo ben trovato Presidente Nazionale grazie ai ministri presenti grazie al Presidente della Camera che ospita la nostra conferenza stampa qui stavamo parlando nel forum della ristorazione condotto dal Rettore Gianluca Gregori tutti i problemi della ristorazione che stanno affrontando stiamo festeggiando eccoci vi vediamo siamo qui siamo qui come? Davide Rappello Davide Rappello sì sì Davide Rappello sono sì e ci sono tutti gli altri ospiti sono seduti sono solo io in piedi perché aspettavamo il vostro collegamento per poi proseguire nei nostri lavori perciò a voi la parola perfetto perfetto ti sento a scatti volevo dire che le Marche stanno facendo un suo il suo lavoro per questa giornata della ristorazione che si svolgerà il 18 i ristoranti che hanno partecipato che parteciperanno a questa giornata cioè sabato sono 948 ad ieri pertanto pensiamo di superare i mille in una regione così piccola oltre mille ristoratori che parteciperanno a questa festa che è la loro festa è la loro momento importante per valorizzare il lavoro la professionalità la preparazione e quello che è per quanto riguarda lo sviluppo del territorio siamo alle porte di un turismo riteniamo che la ristorazione possa svolgere al meglio il suo compito nel rilancio economico di un territorio fortemente colpito dal terremoto e poi chiaramente dal covid e da le alluvioni che sono state riteniamo anche questo oggi non è in qui presente perché sta arrivando il governatore che stiamo sviluppando insieme questa attività e anche investimenti per poter rilanciare questo settore come panorama e sviluppo della ripresa economica delle marche bene vi ringraziamo e complimenti per il numero dovete sicuramente arrivare a mille ma non ho dubbi che ciò accadrà per cui ringraziamo i nostri amici delle marche grazie e buon lavoro grazie grazie a voi bene adesso voglio invitare qui i rappresentanti gli amministratori i direttori delle imprese che hanno sostenuto e che stanno sostenendo questa giornata perciò Gabriele Angeli direttore marketing della Oreca di Conserve d'Italia Roberta Briccolo presidente consorzio tutela vino prima 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 io sto in piedi prego grazie Alessandro Chiarini responsabili del affari legali del consorzio tutela grano padano Antimo Caputo amministratore delegato del mulino Caputo Giuliano Dalfo del gruppo CFO del gruppo San Pellegrino e Carlo Broglia business integration manager di Zucchetti Hospitality molto bene devo dire che sono molto contento di essere io a condurre perché l'importanza diciamo delle imprese che credono in una iniziativa del genere è fondamentale poi imprese che rappresentano materie prime che rappresentano appunto in molti casi l'inizio di come è stato detto della filiera cosiddetta allora comincio subito dal nostro direttore marketing del Conserve d'Italia voi tra l'altro avete nel vostro nel vostro funziona? Innanzitutto è una domanda che faccio a tutti voi in realtà ossia per quanto sia importante per ciascuno di voi veramente come posso dire partecipare a questa festa è una giornata ma deve diventare una festa faccio una piccola riflessione su questo se voi pensate che ad esempio nella cultura rinascimentale il personaggio più importante che era la corte del duca o del principe era in assoluto lo scalco lo scalco era un umanista che era preposto a organizzare le feste del principe e evidentemente le organizzava all'altezza di quello che il principe voleva e aveva al suo servizio evidentemente pittori scultori architetti poeti messi sbugo alla corte estense aveva al suo servizio Ludovico Ariosto cosa voglio dire voglio dire che da sempre nella cultura umanistica il momento della festa il momento del simposio del bere assieme del convivio del vivere assieme era il punto centrale della rappresentazione e della rappresentazione della cultura di un principe perciò di una regione di un ducato di un principato perciò fare oggi la festa della ristorazione è tutto quello che è stato detto ma è come fosse la festa delle feste intendo dire da un punto di vista culturale e simbolico la tavola è il momento più alto dell'uomo non a caso scusate ma attorno a una tavola è stata fondata una religione allora io vorrei far capire che tutto quello che è stato detto è importante ma questa festa è molto di più e a mio avviso deve diventare una festa non solo dei ristoratori ma una festa dei cittadini una festa per i cittadini una festa per tutti perché non c'è niente di più straordinario che stare assieme non a caso quando ci si sposa quando si fa un battesimo quando c'è un funerale si finisce sempre attorno a una tavola gli uomini hanno bisogno della festa attorno a una tavola ecco scusatemi ma era per quanto mi riguarda era molto importante introdurvi con quello che pensavo per chiedere per chiedere a voi appunto allora voi che siete appunto produttori che producete materie fondamentali voi avete un marchio che è il simbolo del pomodoro per dire per cominciare ecco cosa il vostro sentimento perché avete aderito a questo prego allora grazie della domanda e grazie per l'invito sia alla Fipe e agli onorevoli tutti per questa giornata veramente molto importante io rappresento Conservitalia Conservitalia è un'azienda cooperativa agricola tra i più grandi d'Europa noi abbiamo 14.000 soci agricoltori italiani che producono e conferiscono le loro materie prime che noi trasformiamo in prodotti finiti che vanno sulla tavola di tutti gli italiani con i marchi Valfrutta Yoga Derby Gioli Colombani e Cirio che oggi rappresentiamo appunto in questa festa perché riteniamo che Cirio il simbolo del pomodoro italiano nato nel 1856 quindi prima dell'unità d'Italia rappresenti un simbolo del made in Italy quindi non solo in Italia ma in oltre 50 paesi del mondo dove siamo presenti la nostra missione appunto è quella di valorizzare le materie prime che gli agricoltori italiani ci conferiscono e trasformarla nei prodotti finiti migliori per le tavole degli italiani ma anche per tutto il mondo della ristorazione degli operatori professionali quindi per noi questa festa è non solo importante è un qualcosa che ci rende orgogliosi di partecipare a questa festa perché riteniamo di avere nel DNA tutti quegli elementi che fanno parte di questa festa che è appunto una celebrazione del saper fare italiano che in questo caso è nel mondo della convivialità della ristorazione e quant'altro ma è moltissimo anche nella produzione e nella capacità di fare prodotti quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi e dal pomodoro passiamo passiamo al vino corretto ugualmente dal nostro punto di vista ecco preciso io rappresento i produttori del vino Custoza Doc dunque il vino bianco prodotto sulle colline moreniche tra la città di Verona e il lago di Garda anche noi siamo molto orgogliosi di essere al fianco e di sostenere la ristorazione di cui in dubbio condividiamo a pieno fino in fondo ideali valori e obiettivi li abbiamo citati prima ampiamente oltre alla ospitalità lo spirito di servizio anche questo rispetto delle tradizioni la volontà di raccontare il passato le storie ma anche il rispetto delle tipicità l'identità penso ancora proprio alla cura per quanto ci riguarda del paesaggio quindi la protezione dei nostri territori abbiamo anche talvolta riceviamo degli attacchi entrambi nonostante tutti i valori e gli obiettivi e le difficoltà che incontriamo penso alle recenti provocazioni per quanto concerne la cucina evidentemente all'origine di certe ricette della stessa italianità altrimenti penso alle diciamo a volte protestuose provocazioni in tema di riferimento all'alcol dei nostri vini quindi tutto questo che svilisce a volte che nega quello che è lo riaffermiamo il valore storico e culturale dei nostri prodotti che sono stati anche citati nei secoli e sono sempre riferimenti simbolici di alto valore pensiamo da Omero al Manzoni dal Vangelo come è stato detto a tanta produzione artistica letterale cibo e vino sono da sempre protagonisti della cultura occidentale ecco noi partiamo da questo aggiungiamo la storicità anche della nostra denominazione quindi siamo custoza è evidente il riferimento ai luoghi del risorgimento italiano prima e terza guerra di indipendenza 48 e 66 sono state combattute proprio nei nostri luoghi e altrettanto storica è una denominazione che ha più di 50 anni di storia alle spalle anche noi a nostro modo siamo diciamo difensori di questi valori volendo interpretare l'unicità del territorio che è dato appunto da questa unicità dei luoghi del Gardesano e anche le uve autoctone quando si parla di piccolo di rispetto dell'identità parliamo di varietà garganega cortese trebbianello cose talvolta conosciuti ma una denominazione porta con sé protagonisti e persone appassionate custose dunque qui anche oggi a fianco della ristorazione non solo per moda ma perché da sempre l'affiancata e soprattutto nell'ultimo quinquennio si è impegnata nel territorio veronese e Gardesano a sostenerla con corsi gratuiti per il personale di sala ad esempio perché anche noi capiamo la difficoltà di avere personale formato ma è altrettanto importante avere delle alte professionalità quando raccontano il patrimonio onologico al fianco delle eccellenze della gastronomia ecco di fronte a tutto questo ci uniamo nei migliori auguri evidentemente per il successo e la riuscita di tutti i grandi progetti che oggi ci hanno occupato e naturalmente siamo certi che insieme il buon cibo il bere bene diano ancora più sapore alla nostra esistenza vi aspettiamo a custozza e grazie 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 e prima di passare la parola al nostro amico Caputo la volevo ringraziare perché ha sottolineato una cosa molto importante per chi lavora come voi che lavorate la terra per chi lavora la terra ed è il paesaggio effettivamente noi abbiamo un straordinario paesaggio perché abbiamo una straordinaria agricoltura nel senso che è un'agricoltura che ha attenzione amore e conoscenza per la terra e perciò come si dice rispetto del paesaggio per cui la nostra qualità la nostra agricoltura estensiva è quella che ha determinato per la maggior parte il veramente la fortuna del paesaggio italiano quando in Italia venivano diciamo i vari aristocratici i vari letterati a diciamo a perfezionare la loro cultura per con il cosiddetto viaggio in Italia la cosa che soprattutto li sorprendeva era veramente il come il diciamo la campagna fosse coltivata come un giardino questo perciò la ringrazio della della presentazione e adesso dal vino passiamo a un altro elemento alimento che è frutto di un'altra grandissima coltivazione il grano le farine sì la nostra azienda 1924 quest'anno compiamo 100 anni e naturalmente l'alleata il partner come dire affiancata da sempre al mondo della ristorazione perché oggi la ristorazione ne reggiamo la capacità come dire di una rappresentazione per noi entrare in un ristorante entrare in una pizzeria oggi tra l'altro il mondo della pizza ha fatto dei passi enormi una grandissima evoluzione nel segmento pizzeria che si è avvicinato dal mondo della ristorazione alzando moltissimo la sticella così come la pasticceria tutte le arti che noi abbiamo dell'arte bianca italiana che è molto 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 ampia oggi è una rappresentazione quando una persona entra in un ristorante vive l'esperienza l'artigiano che prepara il prodotto il cameriere che gli parla e quindi l'esperienza che noi vogliamo affiancare e sostenere soprattutto che riteniamo sia determinante è quello che poi permette alle aziende come la nostra di poter arrivare da dentro le cucine sulle tavole di tutto il mondo quindi la ristorazione per noi e quindi gli chef i camerieri tutto quello che riguarda il mondo della ristorazione sono degli alleati naturali per poterci far conoscere nel nostro modello di azienda e nel nostro modo di fare azienda banalmente quando si vede lavorare uno chef per noi è un gesto d'amore è un gesto di grande professionalità è un gesto di grande competenza professionale questo va il consumatore oggi lo riesce a percepire lo riesce a vedere quindi non solo i numeri che è in grado di produrre la ristorazione ma la vera potenza secondo noi della ristorazione è quella dell'esperienza che fa vivere a chiunque c'entri dentro chiunque entra e mangia in un ristorante parla con il cameriere vede lo chef il pizzaiolo il pasticcere vede una maestria è un racconto straordinario questa cosa addirittura all'estero come diceva prima il presidente Fontano addirittura rappresenta la nostra ristorazione all'estero le pizzerie forse in modo particolare perché c'è una cultura con entusiasmo a tavola particolare addirittura diventare delle ambasciate italiane diventano i punti di incontro dove ci si vede la partita si sta insieme si scambiano opinioni si miscelano le culture dei paesi e questo io penso sia qualcosa di unico nelle varie attività economiche che abbiamo e dietro poi alla capacità di portare tutte le nuove aziende chi produce farina chi produce pomodori chi un buon bicchiere di vino insomma una bottiglia d'acqua veramente tutto viaggia veramente naturalmente insieme quindi un altro passaggio che vi voglio ricordare io penso sia estremamente importante è la ristorazione di fatto è l'avamposto del retail noi in Italia penso che abbiamo rallentato il nostro processo perché non abbiamo valorizzato a sufficienza la ristorazione che in questo altri paesi sono stati come dire più avanti di noi la ristorazione è quello che fa conoscere il prodotto da quelli che noi produciamo voglio dire quindi questa grande opportunità del racconto io penso che davanti a noi se questa alleanza così forte così bella e anche così come dire raccontata come stiamo facendo oggi e per questo è importante per noi la giornata della ristorazione ci permetterà di arrivare sulle tavole di tutto il mondo veramente in una maniera forte e riconoscibile che oggi è quello che permette ad un'azienda e a un cibo di poter essere ricordato ed evocato oggi, domani i figli, i ragazzi e quant'altro la ringrazio la ringrazio e ringrazio anche lei per aver sottolineato una cosa fondamentale il racconto il racconto che deve essere non solamente il racconto delle cose del cibo che stiamo mangiando ma il racconto anche delle donne e degli uomini che quelle cose producono allevano e coltivano e trasformano perché evidentemente se sapremmo raccontare la storia degli uomini sapremmo non solo aggiungere al sapore perciò al sapere una grande cosa ma creeremo evidentemente dei modelli dei modelli e non dimentichiamo che se creiamo sappiamo creare modelli come si diceva una volta miti i miti servivano per essere imitati perciò se creiamo modelli evidentemente i modelli saranno poi imitati grazie prego si buongiorno prego io rappresento il consorzio tutela grana padano a proposito dei sapori e saperi uno dei formaggi più antichi del mondo antichissimo si parlava prima di sostenibilità ambientale economica e sociale e ovviamente noi forse siamo la dimostrazione di questo come tutti gli altri prodotti di questo tipo ecco mi scusi se interrompo ma ci terrei una dire giustamente sostenibilità eccetera ma il mondo contadino il mondo artigiano il mondo degli agricoltori sono stati i primi ossia la sostenibilità il non spreco era parte integrante era parte integrante della vita certo siamo noi che abbiamo creato lo spreco noi cittadini ossia che abitano ma il contadino e l'artigiano lo spreco non esisteva il concetto dello spreco per cui noi dovremmo veramente come posso dire prendere loro a modello prego le dico di più noi una piccola digressione proprio il grana padano è nato proprio come espediente per conservare il latte eccedente che si era venuto a creare in una certa zona dove i monaci avevano bonificato un'area che prima era paludosa quindi sostanzialmente c'è stata questa disponibilità di latte e si è dovuto trovare un modo per conservare e diciamo questo valore e non disperderlo a fronte delle mutate caratteristiche del territorio però dicevo ecco il consorzio vede con grande favore questa iniziativa e volevo per questo partire da un piccolo dato proprio recentissimamente la LUIS ha fatto uno studio sulla percezione da parte dei consumatori del valore delle DOP e IGP e questo studio ha messo in luce vari aspetti interessanti come sono molto riconosciute da più del 90% delle persone come viene riconnesse tanto un valore di autenticità del prodotto di legame col territorio di qualità superiore tante belle cose anche una propensione all'acquisto molto forte per questi prodotti e il dato interessante è che la propensione all'acquisto è però inferiore rispetto alla propensione al consumo cioè sul momento del consumo ancora più si va a ricercare questi prodotti DOP e IGP e un dato che mi faceva piacere ricordare era che alla domanda proprio specifica su che cosa si potesse fare per implementare ancora di più la diciamo la conoscenza la diffusione di queste di queste DOP il 51% ha risposto proprio che ci vorrebbe un maggior coinvolgimento degli operatori della ristorazione oltre che della distribuzione quindi questo mi sembrava interessante perché diciamo ci dà lo spunto per parlare anche di quello che poi è stata un'iniziativa più recente che nell'ambito del CIBUS il 7 maggio è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra l'AFIDOP che è l'associazione che raggruppa i formaggi a denominazione d'origine protetta e la FIPE per promulgare delle linee guida che vogliono essere diciamo di aiuto agli operatori della ristorazione per far sì che vengano proposti e valorizzati al meglio quello che diceva il ministro a cui accennava il ministro certo perché prima alla base c'era uno studio che era stato fatto da una società specializzata su oltre 22.000 a ristoranti che voleva vedere come erano presentati i prodotti se erano citati i prodotti di OP e formaggi nello specifico e è visto che erano citati in quasi 4 ristoranti su 10 però poi di fatto solo uno su 10 li presentava nella maniera corretta cioè con la denominazione completa e magari dando delle indicazioni anche su aspetti importanti tipo la stagionatura e questo è il racconto che andrà sempre di più perfezionato esatto e questo è un elemento importante ora ovviamente i formaggi fanno se si vuole forse da prepista però è un ragionamento che si può applicare a tutti i prodotti una volta nei ristoranti c'erano i carrelli di formaggi si sono andati un po' fuori uso infatti questo nell'ambito di quella linea guida si tende a riproporre anche questo perché oltre a vari consigli sulla modalità di servizio la precisazione della stagionatura l'utilizzo corretto della denominazione o anche dei loghi se autorizzati e quant'altro c'è proprio un invito a riproporre il carrello dei formaggi in quanto tale perché sono spesso usati come ingredienti il nostro è un formaggio versatilissimo e quindi usato tantissimo come per questo utilizzo però anche proprio nell'ambito del carrello dei formaggi quindi in purezza che dà sempre una bella grazie 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 per la presentazione e adesso dopo tutto questo l'acqua adesso parleremo di acqua buongiorno grazie dell'invito rappresento il gruppo San Pellegrino un gruppo che è un punto di riferimento nel settore dell'acqua minerali e delle bibite degli aperitivi non alcolici anche noi quest'anno compiamo gli anni 125 anni quindi è sin dal 1899 che è iniziato un processo un percorso di successo che ha portato al prestigio internazionale del brand San Pellegrino che è diventato nel mondo ne parlavo anche stamattina con dei colleghi un ambasciatore del gusto della qualità ma soprattutto dei valori dello stile di vita italiano di cui parlavamo quindi da 125 anni noi promuoviamo il made in Italy e veicoliamo i valori dell'italianità nel mondo perché abbiamo anche un range di prodotti con cui riusciamo a soddisfare diversi gusti ma soprattutto anche diverse occasioni di consumo durante la giornata che anche questo è importante per il settore dell'ospitalità San Pellegrino e Acquapanna che sono i due brand che sono icone nel mondo dello stile italiano non solo per la qualità intrinseca dell'acqua ma perché hanno saputo e sanno portare all'estero il sapore il gusto e l'assaggio del gusto di vivere italiano di cui abbiamo parlato tutt'oggi e grazie ai ristoratori che hanno creduto sin da subito nei nostri prodotti e con i quali abbiamo un obiettivo comune che è quello di far diventare i momenti alla tavola dei momenti speciali che sono fatti di qualità di gusto ma anche di convivialità abbiamo un rapporto speciale con i ristoratori da tanto tempo i ristoratori per noi sono comunque sono di fatto un anello importante della catena del valore del made in Italy e perciò questa festa questa giornata voi la sposate completamente la sposiamo completamente quel loro lavoro quotidiano creano valore fatturato creano valore aggiunto della filiera e creano più prestigio al marchio che è un valore intangibile ma è un valore importante noi siamo vicini da sempre ai ristoratori abbiamo anche nel passato fatto molte iniziative con loro e per loro ricordo le due recenti più importanti ai me dovute a un periodo difficile in circolo della pandemia abbiamo un'iniziativa supporta restaurant e l'iniziativa di Fipe il solito con cui abbiamo supportato la ripresa dei consumi dopo la pandemia quindi chiudo dicendo che siamo siamo felici siamo orgogliosi di essere qua oggi sosteniamo questa giornata l'abbiamo anche sostenuta con entusiasmo l'anno scorso quindi siamo guardi ricordo quindi questo vuol dire che ci crediamo perché credo che questo settore sia veramente un simbolo e un fiore all'occhiello del made in Italy grazie Carlo Broglia apparentemente lei non ha a che fare con questi signori perché si occupa di tutt'altro però altrettanto utile esatto prego dopo grazie grazie per la parola allora sono qua in rappresentanza di Zucchetti la prima software house italiana dal 2016 45 anni di storia alle spalle con una famiglia italiana dietro perché ci tengo a parlare di italianità visto che oggi anche chi mi ha preceduto anche i ministri il presidente della camera hanno parlato di quello che è l'orgoglio della cucina italiana e della ristorazione italiana per cui noi siamo orgogliosi di essere italiani di sponsorizzare questa questa giornata della ristorazione come partner tecnologico così ci siamo definiti perché abbiamo parlato di tanti bei prodotti di tante belle cose però dietro a tutto ciò cosa ci deve essere oltre al lavoro dell'uomo ci deve essere chi supporta il lavoro dell'uomo ci deve essere la tecnologia ci deve essere un processo di digitalizzazione oggi molto di moda ma necessario per far sì che tutto questo possa essere portato sulle tavole di noi italiani in Italia e all'estero e oltre alla digitalizzazione naturalmente dobbiamo affacciarci al mondo dell'intelligenza artificiale noi siamo fra i precursori di questa tecnologia e quindi ecco perché siamo qua di fianco a Fipe è la nostra prima giornata ma sicuramente sarà inizio di una lunga serie perché la ristorazione italiana per noi è importantissima dobbiamo essere al loro fianco tant'è che all'interno del gruppo che oramai più di un miliardo e trecento milioni di fatturato più di otto mila persone pensate che più di cinquecentocinquanta sono dedicate solo al mondo dell'ospitalità ospitalità che per noi non è solo ristorazione non è solo retail visto che abbiamo parlato all'inizio con Vassiliscos di tutto quello che è il mondo degli hotel noi siamo anche molto presenti in quest'area di business perché appunto all'interno di hospitality ci occupiamo anche di tutta la parte degli hotel quindi a 360 gradi ospitalità ristorazione e sempre di fianco a Fipe in questa giornata della ristorazione grazie un applauso un applauso a tutti i nostri ospiti prego se vi volete accomodare vi ringrazio veramente per le testimonianze che avete dato e per come le avete date ora voglio chiamare qui sul palco Maurizio Griffoni dovevo chiamarlo all'inizio ma c'era il collegamento imminente che è presidente della Fonte che è una finanziaria no 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 in piedi perché il seduto non ha se c'è un microfono no no dal mio va bene c'è il microfono perfetto allora la domanda è molto semplice un fondo appunto di investimento come può valorizzare questo tutto questo enorme comparto bene non funziona c'è il mio grazie grazie innanzitutto i complimenti per la giornata veramente molto molto bella molto interessante e volevo fare un brevissimo inciso perché poi nel manifesto che c'è della giornata della ristorazione leggo amore qualità ristoro passione comunità relazione ospitalità tradizione accoglienza convivialità uguaglianza e condivisione tanti valori espressi importanti ne aggiungerei uno perché un ristoratore una volta mi dice guarda che l'aspetto interessante del nostro lavoro è la fiducia la fiducia che la persona quando viene a mangiare mangia e introduce al suo interno il cibo che gli diamo un po' come la mamma il bambino che accoglie e quindi per noi è un gesto meraviglioso cosa può fare un fondo come questo noi siamo un fondo fonte siamo il fondo di previdenza complementare nel settore del terziario quindi voglio dire commercio tutto il settore dei servizi del turismo la ristorazione e quant'altro noi facciamo diverse cose per il settore la prima dedicata essendo un fondo di previdenza complementare la prima è dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici cioè noi ci affianchiamo alle pensioni obbligatorie quella pubblica come previdenza complementare per cercare di fare in modo che queste persone quando andranno in questione abbiano una pensione dignitosa perché le prospettive non sono proprio così quindi questo è il primo aspetto il secondo aspetto è quello che siccome noi siamo investitori istituzionali abbiamo in pancia un patrimonio importante deve pensare il dottor Rappello che lo stesso fondo fonda circa un patrimonio di 5 miliardi e mezzo che deve investire noi lo investiamo e quali sono gli investimenti che noi andiamo a fare sono quelli preferiti e miscioreletti cioè proprio quelli del nostro settore per cercare di dare sviluppo per cercare di dare crescita ai vari settori del nostro comparto economico ecco che allora come si può fare tutto questo velocissimamente attraverso voglio dire gli investimenti finanziari e quindi con private debt tutti gli strumenti finanziari alternativi e credito bancario e ce ne sono tantissimi qua ci sono degli imprenditori che li utilizzeranno sicuramente attraverso il private equity e quindi l'introduzione con capitali freschi all'interno delle società nella compagine societaria e quindi dando poi il sistema di relazioni al management e quant'altro terzo e non ultimo anche in venture capital e quindi andando a trovare quelle che sono le realtà più innovative nel mercato nel mercato italiano che possono aiutare anche la ristorazione perché non investiamo ovviamente solo nel nostro comparto ma in tante altre cose però queste start up possono aiutare tutte queste eccellenze tutto questo mondo ebbene noi attraverso i nostri investimenti non ultimo abbiamo investito quasi 650 milioni proprio nel private market quindi in fondi dove noi siamo presenti nel board e diamo delle indicazioni precise andate a investire lì e noi vi diamo i soldi questo possiamo farlo grazie grazie ora invito qui i rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto che hanno sostenuto già dall'anno scorso la festa la giornata della ristorazione perché simbolicamente metteremo qui il disegno il progetto di legge e simbolicamente chiederemo a ciascuno di voi di mettere una firma così di condivisione e mentre metterete la firma vorrò sentire così un commento vostro una diciamo di soddisfazione perciò vi chiamo vi mettete qui in piedi e poi mano a mano firmiamo allora invito qui Giorgio Scarselli consigliere dell'associazione italiana ambasciatori del gusto Roberto Carcangiu presidente associazione professionale cuochi italiani Andrei Calcangiu ah vedi che avevo detto giusto allora perché mi correggete sono Italo Sardo Italo Sardo Andrei Alfieri presidente italian chef Enrico De Flinger presidente Eurotoc si si in di là perché in odio di richiamata ciao Salvatore Bruno segretario generale federazione italiana cuochi Alberto Basso presidente giun restaurateur d'Europe Alessandro Pipero consigliere Pipero scusa questo si consigliere Rexoste Cesare Carbone presidente unione ristoranti buon ricordo e Andrea Sidi di Gaglia che in realtà non è un'associazione ma è una scuola e che scuola scusa voglio aggiungere anche Carmelo Carnevale ICC International Culinarium Consortium perfetto mi arriva adesso una comunicazione Carmelo Carnevale ICC International Culinarium Consortium prego allora vi invito qui dove la mettiamo la cosa ecco qua così la firma in modo tale che si possa ad uno ad uno il primo dopo che avete firmato vi faccio dire una vostra particolare una vostra visto che sono anch'io tra l'altro ambasciatore del gusto allora giriamoci un attimo perché a favore di camera gli ambasciatori del gusto nascono nel 2016 dopo l'expo e noi siamo un'associazione che comprende al proprio interno sia professionisti della ristorazione che professori universitari pasticceri pizzaioli nell'idea di promuovere diciamo il 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 gusto italiano e l'attenzione italiana ai prodotti del territorio e alla ristorazione e siamo contenti oggi di essere qui perché abbiamo la possibilità di condividere la nostra visione con tante altre associazioni quello di cui abbiamo bisogno è non solo una giornata ovviamente celebrativa che può essere una cosa importante ma la condivisione di visioni sul futuro perché la ristorazione sta affrontando un periodo piuttosto particolare legato soprattutto alla difficoltà di reperire personale il nostro mestiere non ha più appeal sui sui giovani per cui ecco l'importante di riportare il fascino di questo di questi lavori di portare il fascino di questi lavori questo sicuramente sicuramente ma anche quello di collaborare tra associazioni per avere una visione comune che ci possa aiutare ad uscire fuori da questo impasse grazie prego prego prima la firma ecco la breve dichiarazione va beh a nome mio e di Apci ovviamente che è l'associazione che rappresento che dire credo che questa giornata sia un po' come il matrimonio tutti oggi siamo qua il lavoro comincia oggi grazie 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 a tutti perché questa è l'unica cosa che si può dire tutto quello che c'era di buono da dire l'avete già detto la parte cattiva è rimasta nascosta dobbiamo tirarla fuori per farla funzionare bravo bravo bravissimo prego italian chef giusto? allora anche noi siamo un'associazione non solamente di chef ma anche di pizzaioli panificatori pasticceri l'anno scorso eravamo intorno a un tavolo abbiamo iniziato a mettere i tasselli quest'anno è un tassello grosso ormai quindi diciamo che si può appendere ringraziamo la Fipe perché il problema grosso nelle associazioni è unirsi ogni associazione alla fine gioca un suo campionato poi alla fine quando però devi arrivare in certe posizioni in certe istituzioni hai bisogno di qualcuno che ti ci porta la Fipe l'ha fatto si è messa a disposizione anche delle associazioni per tenerle unite come era venuto fuori in una call poco tempo fa perché il problema nostro poi è proprio quello quindi speriamo di continuare e l'anno prossimo non so dove saremo l'anno prossimo in questa giornata? una sorpresa e potremmo andare tutto adesso prego Eurotalk ecco qua grazie buongiorno a tutti sono Enrico Delfinger sono presidente di Eurotalk Italia Eurotalk International un'associazione creata da Gualtiero Marchesi da Paul Bocuse da Romeyer quando i paesi della comunità europea erano solo quattro abbiamo la sede al Parlamento Europeo presso Bruxelles ho sentito delle bellissime parole io sono tornato ieri sera tardi da Shanghai dove ho partecipato a Food Daily con il nostro amico Roberto Bava una bellissima fiera dove ho portato 20 prodotti eccellenti italiani ero l'unico stand italiano presente a questa fiera ho avuto l'onore di ospitare qua il presidente e l'organizzatore di questa fiera di portarlo a Identità Golose pagandogli il biglietto e poi di portarlo anche al Vinitaly e quindi siccome di parole ne ho sentite tante e di provocazioni la mia può essere una piccola provocazione bisogna anche essere molto come posso dire operativi e andare io sono andato fortunatamente sfortunatamente da solo mi sono portato un po' di prodotti anche in valigie ho cucinato i miei piatti classici il risotto della Regina Vittoria il risotto del Re Carlo e i tagliolini neri al tartufo ho portato queste 20 eccellenze e ho potuto scoprire e poi alla fine anche premiare dei prodotti molto interessanti legati anche a un'altra cultura molto diversa dalla nostra sicuramente quello che facciamo è molto importante e noi ci teniamo molto a essere qua e saremo sempre presenti con gli amici della FIP grazie a te grazie grazie per la provocazione prego Alberto Basso Rappresento la Federazione Italiana Cuochi un'associazione diciamo di oltre 120 associazioni su tutto il territorio italiano e naturalmente rappresentare la ristorazione dal punto di vista diciamo dei cuochi significa parlare di competenze parlare delle competenze che come dire a nostro avviso sono un patrimonio italiano al pari dei nostri prodotti e di tutte le nostre tradizioni anche perché sono queste competenze che fondano le tradizioni a me piace sempre molto il suo richiamo diciamo al rinascimento perché parlare del rinascimento significa parlare di gusto i cuochi sono anche oltre ad essere ambasciatori del territorio sono forse per primi ambasciatori del gusto lo devono diffondere lo devono creare a volte e una volta mi fu chiesto diciamo ma si può educare al gusto perché diciamo è una facoltà soggettiva no quindi mi chiesero dal punto di vista appunto di un di un americano di un appunto di un cliente degli Stati Uniti che prende il cappuccino insieme alla carbonara come dire che cosa fa e io rimasti molto come dire molto fui molto in difficoltà diciamo di fronte a questa domanda però io ritengo che l'ambizione l'ambizione proprio di un cuoco sia quella proprio di tentare di educare al gusto perché è vero che il gusto è qualcosa di soggettivo ma proprio nella condivisione in qualche modo diventa diffuso e si può espandere si può diventare universale quindi sarà pure soggettivo ma è soggettivamente universale e quindi si può educare grazie prego buongiorno a tutti sono presidente dei giovani istruvatori italiani ringrazio Fipe per questo bellissimo evento questa iniziativa per me è un piacere essere qua è un piacere perché comunque grazie a questa giornata è importante che noi tra associazioni cominciamo a parlare di più a conoscerci di più per portare in giro per l'Italia ma anche nel mondo l'importanza della cucina italiana il bello della cucina italiana noi siamo pochi siamo un'ottantina poco più di 80 associati però siamo molto molto coesi e mi auro che insieme a Roberto insieme ad Andrà insieme a tutti gli altri associazioni di fare più coesione possibile per portare in alto questa bellissima iniziativa grazie grazie a lei prego adesso il ristrante del buon ricordo giusto che tra l'altro nel premio il buon ricordo vuol dire la buona memoria perciò il perpetuare anche la tradizione prego buongiorno a tutti sono Cesare Carbone rappresento l'ulione dei ristoranti del buon ricordo noi rappresentiamo la tradizione dell'eccellenza della cucina regionale siamo un'associazione che esiste da 60 anni quindi è nato dal 1964 proprio quest'anno compiamo 60 anni di attività e portiamo avanti quello che vuole essere la tradizione l'eccellenza della tradizione regionale l'eccellenza nell'accoglienza crediamo molto nei valori nella ristorazione di famiglia e stiamo cercando di portare avanti in grandissimo modo questi valori questa associazione che da 60 anni vive e chiaramente cambia noi siamo un centinaio attualmente chiaramente non tutti ci sono stati dei cambi generazionali ci sono stati il mondo è cambiato ma noi crediamo molto in questi valori crediamo molto nella cucina regionale che può essere declinata in maniera più o meno innovativa ma deve avere una forte identità di quelli che sono i nostri grandi valori della cucina italiana regionale quindi ringrazio Fife per la bellissima giornata per quello che sta facendo per noi e un caro saluto grazie per ultimo no 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 aspetta prima facciamo le associazioni prego Carmelo Carnevale prego avevo detto che Alma allora prego volevo ringraziare a Fife tutti voi per noi oggi per me scusate l'emozione però è un momento importante io sono il presidente di ICC Italia Culinaria Consorzio e rappresentiamo il mondo ospitali dall'estero di cui da forza al nostro Made in Italy portiamo i valori che abbiamo già discusso prima su questo palco e con tutti insieme perché mettiamo insieme i valori dell'ente consolari e andiamo avanti con il nostro produrre con la passione di fare e portare avanti il nome dell'Italia grazie grazie prego 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 per le soste perché Pipero non c'è avuto un problema cioè ricordandolo della fondazione lo conosciamo ricordandolo prego prego una parola sì velocissimo io sono ricordandolo della fondazione Gualtiero Marchesi le soste sono state fondate nel 1982 da Marchesi a un gruppo di amici tu c'eri proprio per cominciare un percorso prendendo dal modello francese di associazione di ristoranti e dire perché noi non creiamo una prima associazione di ristoranti e portiamo avanti l'immagine dell'alta cucina italiana in modo tale che i clienti che vengono possiamo indirizzarli e coinvolgerli diciamo in una ristorazione di alto livello quindi è un piacere Marchesi sarebbe veramente molto contento della giornata della giornata della ristorazione perché anche a livello europeo era nata la giornata della cucina altre cose dice in Italia dobbiamo fare qualcosa quindi grazie a Lino Stoppani e alla Fipe per aver fatto questo ecco vedi abbiamo fatto bene perché dalle soste perciò da un'idea di Gualtiero Marchesi all'alma un'altra straordinaria idea di Gualtiero Marchesi anzi fondatore firmato ecco ho tenuto per ultimo perché dopo tutto diciamo tutti quello che abbiamo ascoltato eccetera l'esigenza fondamentale per tutti è quella formativa che non è solo l'esigenza del mondo della ristorazione ma un'esigenza nazionale formare ossia dar forma a donne e uomini è il vero dettato che ogni paese dovrebbe darsi in questo caso in questo comparto è assolutamente strategico importante voi siete la scuola di cucina e siete diventati una scuola di cucina come modalità come metodo eccetera che fa scuola anche all'estero non solo per portare la cucina italiana ma per mutuare modelli formativi giusto? questo mi fa piacere appunto un breve un breve ok grazie grazie Davide ringrazio la Fipe siamo stati onorati e felici ieri di aver lanciato la giornata da Colorno con tutti i nostri studenti siamo onorati e felici di essere qui si è parlato tanto di scuola oggi una nota brevissima se l'obiettivo è la cultura dell'ospitalità le scuole sono un tassello ma come si dice nel proverbio africano per educare un fanciullo serve un villaggio credo che qui oggi ci sia la comunità educante la scuola ha profondamente bisogno di chi è sul campo chi è sul campo ha bisogno della scuola bisogna investire nella scuola già tanti chef hanno a cuore Alma ma non dimentichiamoci tutte le scuole alberghiere e dico solo che con Fipe abbiamo una progettualità molto importante di associare queste scuole e diventare una voce univoca nelle nostre differenze anche in questo campo grazie a tutti grazie per aver sottolineato una cosa la comunità educante nel senso che tutti noi siamo comunità innanzitutto e tutti noi dobbiamo essere educatori a nostra volta questo è un punto irrinunciabile adesso mi sembra che dovrebbe esserci un contributo dell'ambasciatore guatemalteco italiano in guatemala giusto è un contributo non è un collegamento per cui questo lo chiamo e arriva giusto facciamolo andare ho il piacere di darvi il nostro saluto dalla guatemala sono l'ambasciatore di Italia in guatemala Paolo De Nicolo e per questa celebrazione della giornata della ristorazione italiana nel mondo abbiamo il piacere di essere qui con il segretario generale della camera di commercio italo-guatemalteca il dottor Gabriele Musso nonché delegato dell'accademia italiana della cucina e abbiamo il pregio di avere il nostro Leonardo Donardini è il maestro di cucina nonché proprietario gestore del ristorante Bulgari nel centro Fontaveglia della città di Guatemala abbiamo anche la presentazione dei piatti preparati dal nostro chef e lascio la parola al dottor Musso buongiorno a tutti come camera di commercio italiana in guatemala abbiamo accolto la seconda edizione della giornata della ristorazione italiana e nel mondo facendo due attività una come Sistema Italia e la Municipalità di Città del Guatemala mostreremo i piatti di sette ristoranti italiani in Guatemala e il 16 in concomitanza con l'attività che si celebra a Roma organizzeremo una cena come Accademia della Cucina dove lo chef Leonardo Donardini ha proposto un menù molto completo e particolare dove il piatto che abbiamo scelto come tipico del rispetto delle tradizioni della cucina italiana quest'anno sarà gli agnolotti alla Modenese lascio la parola allo chef Nardini per raccontarci la sua ricetta gli agnolotti sono un piatto del ricordo per me perché rappresentano il recupero degli arrosti che faceva la domenica mia nonna quindi un piatto di recupero un piatto saporito e che rappresenta e che coniuga diciamo così tutti i valori della nostra terra grazie assaggiamo quindi l'opera del nostro chef Nardini con tutto il piacere di farlo un applauso un applauso per la buona volontà e per l'intelligenza di averlo fatto ora chiamo qui un attimo sul palco Paolo Marchi Lupini e Carlo Golla prego vi sedete perché vedo certo prego evidentemente sono tre personaggi che attengono al mondo della ristorazione ma attengono uno no sicuramente questo alla mia sinistra ma attengono tutti fortemente al mondo della comunicazione e comincio in questo caso da Golla che apparentemente diciamo non è sintono perché non si occupa nello specifico ma Carlo Golla è stato già dalla volta precedente diciamo nella stessa nella edizione precedente è stato uno dei protagonisti del successo perché devo dire che grazie a Mediaset e in questo caso non solo Mediaset ma anche Publitalia con la campagna eccetera ha veramente saputo divulgare e saputo comunicare con le testate giornalistiche e con all'interno delle trasmissioni l'importanza di questa giornata l'avete fatto anche quest'anno sta continuando è già iniziato se voi guardate sia la campagna di Publitalia sia le diciamo le le l'inserimento io domattina sarò a uno mattina e poi giustamente sarò a striscia a lanciare mattino cinque mattino cinque uno mattina sì va bene va bene mattino cinque si doveva chiamare uno mattina capito mi ha sbagliato la squadra bravo bravo dai Carlo comunque anch'io contribuisco alla ristorazione in qualità di grande cliente quello quello lo sappiamo quello ogni volta che siamo assieme è una veramente una festa la comunicazione cioè mi occupo di televisione di comunicazione per cui raccontiamo alla gente quello che vuole sapere cioè noi dobbiamo avere quella sensibilità cercare di capire che cosa vuole la gente per raccontarli il contenuto enogastronomico la ristorazione lo è cioè è molto facile comunicare la televisione la ristorazione i contenuti enogastronomici perché la gente lo vuole sapere raccontare la tavola la tavola è il focolare in cui ci si incontra i gruppi le famiglie le comunità in cui ci si condivide a tavola si condivide il cibo si condividono idee emozioni per cui è arte è cultura per cui in televisione diciamo che viene molto semplice noi la giornata della ristorazione l'abbiamo seguita l'anno scorso lo stiamo facendo con grande intensità anche quest'anno perché ci piace che passa un po' il concetto che ci sia un giorno di festa per i ristoratori e per i i clienti io penso che anche noi abbiamo i clienti chi guarda la televisione è il nostro cliente io penso che il le aspettative che i clienti riservano verso noi come televisione o verso voi come ristoratori siano il motore dell'innovazione per cui penso che il più bel racconto e voi il più bel piatto lo dobbiamo ancora fare perché per accontentare per alzare le aspettative che la gente ha in noi ci dobbiamo sempre migliorare noi con un prodotto con un racconto televisivo e voi con una tavola o un piatto per cui sabato 18 ci sarà questa festa io spero che passi anche il messaggio che i clienti lo capiscono e vengono anche a farvi gli auguri perché è un po' la vostra festa grazie Paolo allora in doppia festa vabbè come identità golose voi fate il diciamo il il lavoro sporco no il più importante convegno certo no no è come invece magenta burro è come fate evidentemente collaborate alla comunicazione della giornata io volevo sottolineare due cose tu me va bene allora no basta l'abbiamo chiarito prego allora voglio una tua grazie Davide grazie a tutti identità golose e magenta burro noi dall'anno scorso questo è il secondo anno io ho detto il lavoro sporco perché quello che fai umile è dietro le quinte abbiamo telefoniamo ai ristoratori italiani per perché aderiscono alla giornata il contatto diretto è sempre la cosa più bella magenta burro Claudio Ceroni mio socio che era seduto lì e così ci sbattiamo per questo noi abbiamo una concezione di identità golose cerchiamo di essere sempre in anticipo cioè a noi fa piacere moltissimo la storia la cultura che hai tu e tantissime cose ma io vorrei sapere un anno prima quali saranno le nuove stelle vorrei sapere prima quali saranno le nuove tendenze perché credo che Gustav Mahler lo disse che la tradizione non è l'adorazione delle ceneri ma è coltivare il fuoco del braccio e così via e questo è un po' quello che facciamo noi di identità golose e questo lo trovo molto bello perché molto spesso in Italia facciamo diciamo ci complimentiamo quando le cose sono ufficiali però facciamo una fatica bestiella a dire che un collega è bravo magari recensiamo i libri di colleghi americani perché tanto non ci fanno concorrenza oppure consigliamo ristoranti all'estero per paura di consigliare quello che sta a 500 metri da te e noi cerchiamo di unire tutte queste cose identità golose è un congresso e tante altre cose ancora qua è tutto molto bello però siccome abbiamo sempre tutti parlato in positivo stiamo attenti a febbraio marzo molti ristoranti stellati erano vuoti per cui la gente magari una fascia media aveva speso troppo si è fermato un attimo sta riprendendo adesso e la seconda cosa l'aveva detto Dandolo nella conferenza di Milano ma lo verifico anche perché mio figlio fa il cameriere in giro per il mondo una volta si andava a studiare cucina diciamo dai francesi adesso vai anche dagli scandinavi dai peruviani per il ceviche e così via però da alcuni anni gli italiani quasi tutti non tornano più in Italia cioè guadagnano così bene all'estero e sono così coccolati ricevono alberghi e così via che quando li chiami per chiedergli ma senti a 1500 euro vieni e quindi io me ne sto a Copenaghen ecco per dire una volta la visitavi per la sirenetta adesso la vai per i ristoranti che ha anche il colmo se vogliamo come cosa per cui bellissimo tutto quello che abbiamo fatto però dal 19 domenica riposiamo lunedì all'anno prossimo cerchiamo di fare in modo che questi tornino perché veramente c'è uno squilibrio magari uno nei paesi negli Emirati non ci va perché brutto e caldo poi c'è degli stimenti pazzeschi però chi sta in Lombardia in Svizzera ci facilmente mio figlio vuole andare a Barcellona adesso e così via proprio perché il fatto che si guadagni poco in Italia sta frenando molto la ristorazione perché il fatto che poi c'è identità la tv noi due stessi siamo a strisce e così via fa vedere questo lavoro bellissimo senza fatica invece devi fare un mazzo tanto dietro e quando vai a sbattere su certi stipendi certe difficoltà di vivere a Milano così la gente si blocca molto ci sono dei tre stelle con cuochi italiani in Francia a Barcellona e così via magari i francesi non lo ammettono però è così per cui noi stiamo donando la nostra scienza e la nostra bravura agli stranieri e questo da una parte è bello se ci rispettassero però ogni tanto invece ne approfittano e questo non è molto bello grazie grazie ma proprio proprio per proprio la giornata come stiamo vedendo ha messo insieme tantissime voci ed è diventato diventato un coro polifonico non a caso qualcuno diciamo delle associazioni ha detto è bello perché siamo tutti assieme l'ha sottolineato l'ha sottolineato Andrea con Alma ossia il fatto la festa è la festa ma la festa è stata è anche un pretesto e di fatto diventa anche una opportunità di stare tutti assieme e di risolvere assieme questi problemi perché tutti lo sappiamo ma se siamo tutti quanti uniti evidentemente potremmo cercare di risolvere tutto questo e poi evidentemente far festa lavorare e dopo far festa giusto? prego ultima quello che hai appena detto credo che sia il dato centrale di questa occasione cioè al di là della festa che sia un momento temporaneo è un momento che serve per sottolineare l'importanza di questo settore è già stato detto da tutti ma quello che secondo me è significativo del fatto di trovarci qui dopo essere stati l'anno scorso al Ministero del Made in Italy è questa vittoria di questa scommessa della Fipe che ha fatto di raccogliere tutto il mondo della ristorazione e credo che questo fosse questo va dato atto fosse al Presidente e a tutto il suo staff veramente io lo voglio riconoscere perché insomma ritenendo di essere una delle persone più vicine credo agli amici che dirigono la Fipe è una cosa che bisogna riconoscergli perché questo è stato un passaggio epocale per il nostro mondo cioè sono sfilate prima le associazioni che per tanti motivi comprensibilissimi erano magari anche spesso in diciamo che in polemica o in disaccordo con iniziative promozionali divergenti oggi si riesce a fare un discorso che porta a dei risultati perché adesso questa legge ripeto questa proposta di legge che non so cosa porterà concretamente ma da un segnale forte sul quale si potranno innescare sicuramente delle cose concrete ecco quello che per me è fondamentale è stato però anche poi sottolineato da alcuni degli intervenuti prima degli imprenditori che tra l'altro sono anche nostre partner nella maggior parte dei casi questo è un altro elemento di soddisfazione personale quando parlavano anche di altri soggetti e questo lo voglio dire senza togliere nulla ovviamente agli amici cuochi che sono il punto di riferimento anche per noi da quasi 40 anni ma ci sono i metra ci sono i sommelier ci sono tutti i soggetti che concorrono a rendere forte la ristorazione come modello di stile italiano che questa è la cosa che da anni vado ripetendo se come è stato detto il turismo funziona grazie anche all'offerta della ristorazione perché siamo in grado di dare uno stile italiano e per tenere questo stile non serve solo tutelare alcune tradizioni in cucina occorre avere anche lo stile in sala nel rapporto con la gente perché l'ospitalità si costruisce in questo modo e che sia un'associazione imprenditoriale che rappresenta le imprese a guidare questo processo è fondamentale perché altrimenti le associazioni ovviamente professionali o di categoria possono portare a privilegiare chi il ruolo di chi deve presentare il vino di chi deve ospitare ecco io credo che da qui sia davvero importante proseguire su questa strada per costruire tutti insieme e questo è l'augurio che faccio davvero a tutti grazie grazie a tutti prima di invitarvi alla alla colazione a Palazzo Ferraioli vi devo leggere il comunicato il messaggio che è stato scritto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Tajani che prima aspettavamo e che adesso è arrivato ringrazio il Presidente Fontana e gli organizzatori di questa seconda giornata della ristorazione rivolgendo un saluto cordiale ai colleghi e alle tante imprese e associazioni di categoria presenti l'industria della ristorazione è una componente molto importante del nostro sistema economico un vero fattore trainante in forza degli oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2023 ed oltre un milione di occupanti in questo quadro la Federazione Italiana Pubblici Esercenti di Conformercio svolge attraverso le sue 335 mila imprese iscritte un ruolo centrale ma oggi voglio soprattutto sottolineare come la cucina italiana sia la migliore ambasciatrice d'Italia nel mondo ed elemento strategico della diplomazia della crescita e come la ristorazione sia lo strumento privilegiato per presentarla al vasto pubblico internazionale per valorizzare l'intero comparto enogastronomico nazionale e la realtà regionale ed eccedenza dove l'amore per il gusto si fonde con la storia e la cultura locale una simbiosi che l'UNESCO ha già riconosciuto ammettendo nella lista del patrimonio e materiali beni come la dieta mediterranea l'arte dei pizzaioli napoletani o le vite ad alberello dello zibibbo di Pantelleria successi che il governo punta ad estendere all'intera cucina italiana per la quale ha presentato la candidatura l'anno scorso la ristorazione è infatti una componente altamente identitaria dei territori come ricordato dall'onorevole Squeri e dagli altri onorevoli deputati firmatari del progetto di legge sulla formale istituzione della giornata della ristorazione questo legame è fortemente radicato anche nella cultura e nello stile di vita delle nostre comunità all'estero per le quali la cucina si sovrappone e integra il ricordo dei nonni delle loro terre d'origine a loro è dedicato il progetto del turismo delle radici un'iniziativa a cui tengo particolarmente e con la quale vogliamo incoraggiare gli 80 milioni italiani all'estero o italo discendenti nel mondo a visitare i luoghi d'origine delle proprie famiglie un modo per valorizzare il patrimonio artistico culturale di borghi spesso lontani dai circuiti turistici più frequentati l'artigianato e le produzioni di qualità le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori un'occasione anche per l'apertura di nuovi mercati per le imprese che di quei territori costituiscono la ricchezza per questo la prossima edizione della settimana della cucina italiana nel mondo sarà dedicata proprio alla cucina delle radici la grande tradizione della ristorazione in Italia significa eccellenze valori territori ma anche ricerca innovazione significa protezione del consumatore il governo è fortemente impegnato a proteggere gli interessi del comparto agroalimentare a cominciare dalla istituzione comunitaria penso alla nostra battaglia per etichettature che informino il consumatore su basi scientifiche valorizzando così la qualità dei nostri prodotti alla base di una dieta mediterranea che ovunque nel mondo è sinonimo di salute penso anche all'offensiva contro il falso italiano che inganna i consumatori e arreca un forte pregiudizio alle nostre esportazioni un tema per noi assolutamente strategico voglio ringraziare la Fipe Confcommercio e tutte le associazioni di categoria che ci sono vicine in questa attività di promozione e salvaguardia il saper fare dei nostri cuochi e l'eccellenza delle materie prime sono infatti il nostro miglior biglietto da visita entro e di fuori dai confini nazionali insieme si vince insieme promuoviamo la ristorazione italiana come vera eccellenza nazionale che contribuisce a definire il modo di vivere italiano capace di attirare turisti e investimenti e favorire le nostre esportazioni contate su di me contate sul governo grazie rinnovo a tutti voi l'invito adesso a colazione a Palazzo Ferraioli grazie 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 grazie